Esperi è oggetto di confronto con un caro amico che è il dottor Aurelio Latorre, che ci conosciamo dall'infanzia. Con lui abbiamo discusso di questo tema e lui mi ha fatto sapere, io non lo sapevo, appunto di due aspetti che mi hanno particolarmente indignato. Probabilmente poi sarà oggetto degli interventi successivi. Mi riferisco alla legge del 99, governo D'Alema, che tutela le lingue vulnerabili e la legge regionale che istituisce un'ora per settimana. Bene, di fatto la mancata applicazione o nel primo caso la non tutela della lingua siciliana mi hanno particolarmente indignato. E mi sono mosso per organizzare la tavola rotonda nella giornata europea delle lingue, il 26 settembre, di concerto con Aurelio Latorre, ma avendo creato una rete trasversale di dirigenti di liceo classico, la Farina, il Mauro Rico, di un antropologo, di un professore di storia. Cioè abbiamo messo insieme le eccellenze della nostra realtà per poter parlare con la gente, tra la gente, per la gente, fuori magari dalle aule accademiche, proprio perché pensavamo che questo era il modo più efficace per poter fare questo percorso. Avevo osservato il percorso dell'onorevole Corrau e mi sono permesso di invitarlo. E lui ha colto immediatamente al volo e ci ha raggiunto a Messina. Il risultato potente di questa tavola rotonda messinese ci ha convinto ad organizzare la settimana della lingua siciliana, che si è tenuta dal 23 novembre al 7 dicembre, scusatemi, al 3 dicembre. Abbiamo organizzato 11 eventi tra teatro, prosa, poesia, teatro erotico, quello di Tempio, storia cantata di Maria Costa, Rosa Baristreri, i licesi si sono impegnati e gli allunni si sono impegnati in performance di grande livello. Bene, credo che sia il momento propizio. Qualcuno prima di me ha detto che non possiamo più arrestare quello che è stato avviato. Secondo me ora non è a mettere d'accordo, non è a mettere assieme, perché solo così potremo raggiungere, non so parlare bene il siciliano, ma lo voglio imparare, quelli che sono i nostri obiettivi. So che ci sono degli obiettivi ambiziosi e noi di ARB, noi di Messina ci siamo. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a te, Davide. Ok. Ancamora. La parola a Paul Roush. Ok, I'm going to give you the floor in English, because the thing is that Sicilian or Siciliano, noi parliamo Siciliano collegato sempre con l'Italiano, ma ci sono Siciliani che parlano Siciliano e parlano inglese, e parlano francese. In this case, you come from the United States. So, it's another story, and you have the floor. Explain us. Grazie. Come prima, prima di cominciare, mi piacesse ringraziare tutti chi che organizzarono questo evento, perché secondo me tutti siamo d'accordo che ci voleva, giusto? Allora, ci sono qua, a sacchi considero come amici, colleghi, pure parenti. Per chi che non me ne conosce, io mi chiamo, come diciste tu, Paul Joseph Roush, però meglio conosciuto come Paolo L'Americano, giusto? Io nascivo e crescivo in una comunità sicolo-americana, di San Brassi, conosciuto in italiano come San Biagio Platene, della provincia di Giugente. Crescivo, nascivo, pure studiavo lingue e studi europei, presso l'University of Central Florida. Mi piacesse un pochettino spiegare come arrivavo a questo punto. Quando aveva 14 anni, è la prima volta che mi addonavo che io non parlavo italiano. Erano due lingue diverse. Un'istoria, un'atticchia pisante per me, ma c'era un signore che mi parlava in italiano. E quando io rispondevo in siciliano, il Giugno mi disse, ma signore, tu non stai parlando in italiano, tu stai parlando in terrone. Ma questo era importantissimo per me, perché mi mettevo a lavorare, a capire, chi siamo come una popola, chi è questa lingua che avevamo oggi, questo tesoro che portavamo avanti. E dopo io cominciavo a vivere in paese, alla paese di confine, e dopo cominciavo a visitare gli altri paesi dell'isola, conoscere altre varietà, le altre parlate che avevamo. E in un giorno, io stavo camminando in mezzo alla strada, io vitte un picciotto, un picciarito, un grevo, come diciamo a naggi ingergenti, giusto? E io parlavo di questo picciotto, perché in un paese parlavamo tutti siciliano, conosciuti, sconosciuti tutti. E questo picciotto, se è a grevo, non mi capì. E chissà è la prima volta in la mia vita che io non potevo parlare con un siciliano nella nostra lingua. E chissà è la mia ispirazione per fondare questa accademia siciliana, che è un'associazione siciliana. ma manco, non avevamo tanto tempo più, non avevamo tanto tempo per scariare già naggi, scariare in capo termini tecnici, perché la verità, siamo già cent'anni in arre. Ma i paesi irlandesi, la maggior parte d'Europa, regione d'Europa, già riconosce le sue lingue, già fanno le spaglie, già naggi, potremmo approfittare di tutte le idee che fanno le arce, e potremmo implementare le best practices che già ci sono. Ma, hai una grande, una domanda per tutti gli oggi. Che pensate voi? La prima volta che gravi questa buca, cominciavo a parlare in siciliano. E' questo picciotto, questo figlio di emigrate, contadine, che manco parla italiano. Ma chissà, discriminazioni, chissà i concetti che portavano naggi, indra. Chissà il nostro problema. Ma, io ho scelto di parlare con la vagina in siciliano, io l'italiano parlo, io lo so, io lo so, io lo so il tedesco, inglese, spagnolo, asqueline, irlandese, la lingua di me pace. Questa discussione la posso fare in tante lingue, ma io ho scelto la lingua nostra. Perché? Perché se no, se non riesce a parlare la nostra lingua, come potremmo godere i diritti di tutti i popoli libri di portare la nostra cultura, la nostra lingua, le nostre proprie figlie? Che è un diritto di tutti. E in questo momento io vi, vi addumano a tutti. Ma, chi pensa come mia? Chi pensa che, chi è il momento che mi ha portato questa cosa avanti? Perché se no, lo facciamo ora. Non lo facciamo più. Non lo facciamo più. Grazie a poco. Per dovere di informazione, ovviamente, quando si interviene in siciliano, ma andiamo in difficoltà i traduttori che vedete lì dentro, da italiano, inglese, è spagnolo. Quindi, vi dico, se volete farvi tradurre, parlate una di queste tre lingue, ma se parlate siciliano, ci capiamolo. Ti dico, io apprezzo, secondo me, il tuo spunto è uno spunto molto interessante, perché è vero che noi sembra che parliamo di siciliano come se il siciliano esistesse solo in Sicilia tra i 5 milioni, 5 milioni e mezzo di siciliani. In realtà, è una lingua che è parlata o conosciuta da tante persone emigrate in tutti i posti del mondo e che quindi sono stati influenzati poi dalla lingua che si parla in quel paese, dai figli e dai nipoti. Io ho avuto un'esperienza dove mi dici come sono? Mi ricordo che la prima volta sono andato a New York, in America, ho incontrato un signore anziano di Carini, che peraltro dovrebbe essere per me abbastanza vicino, facile da capire, ma lui è emigrato, aveva un signore di 80-90 anni, emigrato quando era bambino. Ho fatto veramente difficoltà a prendere tutti i termini perché la lingua essendo una cosa che cambia, quando si emigra e si cristallizza in un periodo storico, quindi non si aggiorna con i termini, con i modi che cambiano, sulla generazione diversa spesso è difficile. Per questo il lavoro che qua stiamo cercando di fare tutti insieme è importante, perché ci riconsente anche di rimetterci tutti dentro uno stesso binario, dentro uno stesso modo di comprenderci in siciliano. Quindi grazie, grazie, sono molto contento che siete qui. Rimaniamo in tema, rimaniamo in tema perché il prossimo intervento è Giulia Sorrentino. Dov'è Giulia? Eccomi, qui. So you are Italian Charities of America. Sì, esatto. Sono Giulia Sorrentino e da circa quattro anni sono un'insegnante presso la... un'insegnante di lingua siciliano, scusate, presso la Italian Charities of America che è un'organizzazione no profit che si trova a New York che esiste dal 1936 ma l'attuale presidente Dominic Giampino mi sentite? Sì. Dal 2009 ha istituzionalizzato per la prima volta e offerto corsi di lingua siciliana negli Stati Uniti. In questo momento i corsi sono offerti totalmente online infatti tutti i studenti si trovano per lo più negli Stati Uniti ma non solo arrivano anche al Canada al Hawaii e vari paesi dell'Europa mentre io sono sempre stata qui e la bellezza è che si è riusciti a strutturare dei veri e propri corsi così come funziona per tutte le altre lingue grazie innanzitutto al supporto fondamentale del professore Chetano Cipolla di cui utilizziamo i libri e numerose pubblicazioni che ci aiutano nello studio del siciliano e soprattutto riusciamo anche a impartire diversi livelli di lingua perché chiaramente i studenti man mano che vanno apprendendo competenze aumentano le loro capacità hanno la possibilità anche di aumentare il loro livello di siciliano impariamo a scrivere a leggere a fare conversazioni e da siciliana è un'emozione incredibile poter insegnare la mia lingua a delle persone che si trovano dall'altra parte del mondo e che manifestano un interesse paradossalmente più intenso di molti nostri conterranei e quindi rispondo alla proposta dell'onorevole Corrao di fare delle proposte nel mio caso la mia proposta o meglio sfida è quella di provare anche a scardinare il legame spesso esclusivo che c'è tra siciliani e lingua siciliana e di provare anche a rivalutare il valore che la lingua ha e di poterla offrire nella sua bellezza anche ad altri parlanti anche a un altro pubblico che non sia necessariamente siciliano perché per esempio mi è capitato di insegnare lingua siciliana anche a dei studenti che non avevano alcun tipo di legame con l'Italia con la Sicilia ma che erano stati in vacanza per esempio in Sicilia si erano appassionati della musicalità della lingua e hanno deciso di impararla di fatto questa estensione questo contatto anche con delle realtà diverse potrebbe anche dare un altro un altro valore è una lingua molto musicale ricca di espressioni di metafore per cui provare a rivalutare anche come lingua appetibile a tutti non solo ai siciliani potrebbe essere uno spunto magari per il resto continuiamo sempre con le nostre lezioni e i nostri corsi sperando di poter estendere il pubblico grazie 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 mille Giulia per la tua testimonianza adesso cambiamo ambito io in realtà quando ho iniziato vi ho detto che qua si stanno incontrando tre mondi quello accademico quello associazionistico e quello culturale artistico in realtà ce n'è un quarto che mi sono dimenticato di menzionare che è molto importante e cui peraltro io sono pure molto affezionato che è l'ambito sportivo e allora come sta il siciliano nello sport noi abbiamo invitato qui i rappresentanti della Sicilian Football Association che hanno diciamo costruito questo progetto della Nazionale Siciliana di Calcio che li vedo e sono lì con cui abbiamo scambiato qualche chiacchiera prima ed è il calcio ve lo dico per esperienza personale perché nella mia formazione io lo dico sempre se riesco a fare delle buone cose in politica nelle relazioni che ho con gli altri colleghi nelle negoziazioni io credo di avere imparato molto nei miei modi dentro gli spogliatoi di calcio dove sono praticamente cresciuto perché da bambino fino a maggiorenne ho sempre giocato ho fatto gli torni in regione in Sicilia quindi sono molto contento di dare la parola a Fabio Petrucci in rappresentanza della Sicilian Football Association Sabinirica a tutti sono Fabio Petrucci segretario generale della Sicilia Football Association l'organizzazione che nel 2020 ha dato vita alla nazionale siciliana di calcio porgo a nome della Sicilia FA un vivo ringraziamento agli organizzatori di questo importante evento nonché al Parlamento europeo che ci ospita essere a Bruxelles nel cuore politico e giuridico dell'Unione Europea a discutere di identità siciliana offre la possibilità di affermare che al di là delle tante difficoltà presenti si va facendo strada a piccoli passi un rinascimento siciliano ad oggi limitato all'ambito della cultura ma che speriamo in futuro possa avere ricadute positive anche sul piano politico sociale ed economico di questo rinascimento culturale in atto la Sicilia FA vuole essere partecipe e protagonista quando nel 2020 un piccolo gruppo di persone tra cui qui presenti Salvatore Mangano presidente Alberto Lepiscopo il direttore generale e il sottoscritto diedero vita ad un'associazione avente come obiettivo quello di creare una selezione calcistica della Sicilia una vera e propria nazionale sebbene non ancora facente parte di FIFA e UEFA in molti storsero il naso altri risero sembrava una follia a distanza di tre anni i riconoscimenti giunti uniti alle vittorie in campo ci confermano la correttezza e la giustezza di quel sogno in questi anni la Sicilia FA ha cercato di portare avanti un programma in grado di tenere inscindibilmente uniti l'aspetto sportivo e quello culturale la valorizzazione della lingua siciliana ha per noi carattere prioritario a tal proposito facendo uso quotidiano del siciliano insieme all'italiano nell'ambito della nostra comunicazione istituzionale nel web abbiamo anche la possibilità di evidenziare le criticità presenti legate soprattutto al mancato riconoscimento ufficiale della lingua siciliana tra queste criticità segnaliamo l'assenza di una standardizzazione avente carattere di ufficialità che consenta un uso corretto della lingua scritta a cui educarci tutti pian piano questa è secondo noi tra le prime questioni da affrontare per dare un futuro al siciliano in quanto vera e propria lingua e non mero agglomerato di dialetti locali ecco perché ci uniamo a chi auspica l'istituzione di un'accademia linguistica ufficiale riconosciuta dalla regione siciliana oggi in questa sede noi rivestiamo un ruolo particolare perché portiamo avanti un'istanza di rinascimento culturale attraverso uno sport il calcio che spesso viene ingiustamente considerato come in antitesi alla cultura noi al contrario riteniamo che è proprio in virtù della sua popolarità della sua capacità di arrivare a tutti oltrepassando anche i confini tra classi sociali il calcio offre alla grande opportunità di garantire una marcia in più al processo di ricostruzione identitaria che tutti abbiamo a cuore anche per questo oggi in questa sede così prestigiosa e costituzionalmente attenta al pluralismo delle culture e delle identità invitiamo le istituzioni e i loro rappresentanti siano essi regionali che europei a supportare attivamente e concretamente la nostra associazione come bene comune dei siciliani se la selezione siciliana di calcio si rafforzerà ogni anno di più non solo avremo nobilitato il calcio dimostrando che esso può ancora rappresentare un fenomeno culturalmente rilevante e non un mero business al contrario avremo anche dato alla Sicilia uno strumento in più per non perdere ma anzi riscattare la sua lingua la sua storia la sua identità millenaria proprio quello che un secolo fa faceva dire ad un osservatore attento e profondo come Antonio Gramsci che la Sicilia ha dimostrato in numerose occasioni di vivere una vita a carattere nazionale proprio più che regionale grazie grazie ovviamente vi auguro ogni fortuna nei prossimi incontri che mi avete detto che faranno il prossimo torneo in Corsica mi hanno detto quindi ti faremo Sicilia adesso passiamo in realtà a un quinto ambito ecco c'è c'è il quinto ambito che è un ambito altrettanto importante e secondo me molto vivo che aiuta molto questo percorso che è l'ambito imprenditoriale allora abbiamo qua due realtà simili, diverse altrettanto interessanti che sono quella di Giacomo Mauceri a cui do la parola per Pia Dove è Giacomo eccolo lì noi ci siamo visti tu sei di Castelvetrano noi ci siamo visti a Campobello Giacomo ha lanciato un'iniziativa che è imprenditoriale ma anche culturale perché lui io ti seguo su Instagram è molto divertente il modo in cui comunica i modi di dire raccontaci cosa fai Giacomo Sicilian Seis sì grazie intanto per la parola e grazie per la possibilità di essere qui quando nel 2019 ho pubblicato il primo contenuto su Instagram non mi sarei mai potuto immaginare di trovarmi a Bruxelles in Parlamento Europeo a parlare di questo progetto nasce appunto con una pagina Instagram in realtà il fattore imprenditoriale viene dopo in un secondo momento dal successo della pagina Instagram che prevede la pubblicazione alternata di contenuti grafici in cui traduco le parole e le espressioni siciliane in inglese a modi scacchiera pubblico anche paesaggi prodotti tipici tutto quello che riguarda la narrazione della Sicilia sui social su Instagram in questo caso poi dal successo della pagina Instagram nasce l'idea di aprire lo shop online perché c'era la richiesta da parte degli utenti di poter indossare queste espressioni questi contenuti da portare in giro per una questione identitaria più che altro perché io sto a Milano sto a Roma se esco con la maglietta ho scritto Futtitini sono felice e riesco anche a insegnare il similicato di quella parola ai miei compagni di corso all'università ai coinquilini a chiunque e poi l'altro aspetto interessante è quello che io stesso mi sono riappropriato di un legame che avevo perso perché io ho studiato a Parma per quattro anni poi ho vissuto a Venezia per altri sette anni e avevo deciso di andare via dalla Sicilia perché avevo un'idea ho detto io non voglio più stare in Sicilia voglio andare via poi però la nostalgia la lontananza la voglia di fare qualcosa mi ha portato a concepire questo progetto ed è grazie a questo progetto che sono tornato in Sicilia ormai da quasi due anni vivo in Sicilia perché ho detto questo progetto ha bisogno di essere portato avanti qua a casa portarlo avanti da Venezia dove mi trovavo non aveva alcun senso e così grazie a questo progetto mi sono rinnamorato della mia terra grazie grazie mille Giacomo e adesso rimaniamo nello stesso campo imprenditoriale e do la parola a Paola Savona che tra le altre cose se è riuscita a farmi mettere una pochetta forse per la prima volta è la mia vita quindi date la parola due ruote due ruote è una start up siciliana che si occupa ci direi tu buonasera si sente? sì bene allora buon pomeriggio a tutti i membri di questo straordinario incontro di siciliani al Parlamento Europeo ho scritto due parole però mi ha ispirato un attimo mi ricollego a Paul le parole di Paul perché mi è piaciuto molto il suo intervento e mi ha fatto pensare ed è solo una diciamo una citazione però per ricordarcelo è un documentario di Costanza Quadriglio a cui ho lavorato Terra Matta che racconta la storia di Vincenzo Rabito che era di Chiaramonte Golfi ed era un'analfabeta che ha scritto parole meravigliose in dialetto siciliano quindi io consiglio sia la visione del documentario che la lettura adesso torno al mio discorso allora mi chiamo Paola e sono estremamente onorata di essere qui oggi insieme alla mia socia Adriana che è accanto a me a rappresentare la Sicilia attraverso il nostro progetto di design dieci anni fa abbiamo creato un marchio che si chiama Due Ruote con due R ispirato proprio alle due ruote del carretto siciliano l'idea nasce dalla necessità di preservare la memoria dal desiderio che non siano perdute una tradizione e un'arte uniche a partire dal primo mezzo a due ruote nella storia moderna della Sicilia oggi il nostro mestiere consiste nel creare stampe e abiti attraverso la scelta attraverso le scelte di cosa cosa disegnare di come realizzare le nostre creazioni ci impegniamo a preservare e valorizzare la ricca storia della Sicilia reinterpretandola in chiave contemporanea e sostenibile l'idea è che oltre ad essere una manifestazione estetica ogni capo di abbigliamento possa diventare un veicolo per la diffusione di un messaggio tutti noi abbiamo la possibilità di essere consapevoli e sostenere i valori del rispetto della cura per l'ambiente e delle vite umane attraverso il semplice gesto quotidiano di indossare abiti e questo semplicemente perché l'industria tessile oggi gioca un ruolo centrale nell'economia mondiale contribuendo purtroppo ad arrecare gravi danni ambientali e sociali noi vogliamo fare qualcosa per trasformare questa realtà adottando la filosofia della slow fashion in antitesi alla fast fashion che tutti conosciamo attraverso l'attenzione alla qualità alla durabilità e alla consapevolezza ambientale creiamo capi d'abbigliamento che raccontano una storia di rispetto per l'ambiente e per le persone e lo facciamo orgogliosamente in Sicilia in origine il marchio due ruote è nato dalla selezione di antichi decori del carretto ma il nostro obiettivo è andare al dirà della mera riproduzione del carretto stesso vogliamo essere la sua evoluzione un nuovo percorso creativo che celebra la tradizione senza limitarne l'espressione nell'innovazione ogni creazione di due ruote diventa così un veicolo per trasmettere la bellezza della tradizione siciliana in un contesto moderno oggi abbiamo scelto però di non indossare i decori del carretto che sono i decori del carretto e che invece abbiamo in qualche modo veicolato un po' in giro oggi dicevo abbiamo scelto però di non indossare i decori del carretto abbiamo scelto di stampare e indossare la parola pace in diverse lingue del mondo dimostrando che la bellezza può essere un linguaggio comune che supera le differenze valorizzando il legame tra segno e significato in questo luogo e in questo momento storico la nostra urgenza da siciliane e da cittadine del mondo è questa gridare silenziosamente un messaggio di pace grazie vorrei concludere ringraziando Alessio Bondi che vedrete tra poco per il suo lavoro magico tra musica e parole per aver scelto di indossare abiti due ruote anche alcuni viaggiatori o viaggianti che ci accompagnano sono Salvo Piparo Giuseppe Muscarello Martino Locascio Ignazio Buttitta Alfonso Campisi proprio adesso porta qualcosa due ruote e ovviamente grazie ancora a Diego Gandolfo e Ignazio Corrao per l'opportunità di condividere la nostra storia con voi grazie mille grazie a te grazie a te Paola se ti alzi fa vedere se vi girate una cosa avete addosso sulla pace pace in siciliano cioè pace in siciliano grazie grazie a voi allora ritorniamo ritorniamo velocemente ritorniamo velocemente dal nel sul campo delle arti quindi sul sul campo in questo caso di danza e coreografia internazionale e di linguaggio dei pupi e do la parola a Giuseppe Muscarello grazie grazie mille non mi sento si sente grazie grazie intanto per averci invitato grazie all'onorevole Corrao grazie a Diego che sono contento che c'è anche la quota danza in questa cosa della Sicilia perché in qualche modo stiamo facendo un lavoro di divulgazione del gesto del pupo è nato due anni fa un progetto che si chiamava le costellazioni del pupo appunto come pretesto per trasmettere consapevolezza al danzatore quindi avevo scelto il pupo poi questa cosa qui ha preso sempre più campo perché oltre a una ricerca coreografica è diventata anche il tentativo di divulgare il più possibile non solo l'opera pupara attraverso appunto lo studio del gesto del pupo che come sappiamo sono due scuole c'è quella catanese e quella palermitana ma poi siamo le costellazioni perché abbiamo anche lavorato sul concetto di pupo pirandelliano per esempio quindi abbiamo sempre mischiato appunto la letteratura con i nostri lavori e devo dire che poi questa cosa ha preso campo e diciamo che danziamo in dialetto quindi abbiamo fatto molte performance in giro laboratori spettacoli in giro per i festival appunto come pretesto per divulgare la tradizione siciliana attraverso il pupo è come movimento è come proprio concetto pirandelliano del pupo io non voglio rubare altro tempo propongo all'assessore Corrao di fare degli spettacoli qui al Parlamento legati appunto al pupo siciliano perché si parla di danza si pensa si ha un'immagine che è quella televisiva però non è così c'è proprio un lavoro di ricerca dietro e quindi potremmo potremmo propongo questa cosa qua grazie mille peraltro oltre ad essere super interessante mi ha fatto pensare ad una cosa perché io avevo seguito la storia dei pupi siciliani peraltro c'erano anche gli spettacoli molto interessanti sui pupi antimafia che facevano a Palermo è una cosa molto bella legata con la lingua sul tema dei pupi siciliani è il linguaggio del cosiddetto baccaio quindi che è una cosa molto tipica del siciliano che è interessante è un angolo di questo argomento che stiamo trattando molto bello ti ringrazio sicuramente ci lavoreremo rimaniamo in ambito artistico grazie Giuseppe passiamo proprio accanto a te a Martino Locascio che si occupa appunto è un autore di opere teatrali e di documentari Martino sì allora non rubo spazio dicendo delle cose ho scritto due giorni fa due sere fa proprio prima di partire una piccola poesiola d'occasione provo a leggerla va bene vediamo se ci riusciamo praticamente io parlavo di quello che stavo provando e di quello che avrei provato una picca riduttura altolocati intesero parrare rinabbanna un'isola a tre punte e tre mare non ne separa rice siciliano a gente si piglia e contrapiglia con questa voce acciavolo rizzagara e picchissone chiamare a monsedate danno belgio che ha un ricordo paro paro darci fu menanno una pirrera a cogliere carbone tutta nata a copate affunciato in tala roccia chinuchini provolazzo e ne contava che poi all'acchianata rizzava muto muto perché non due di belgici parlava siciliano assai assai parlavano italiano e forse perché arrassava una menanno e dove camminava sempre arripezzato ma poi sento rire va come si dice quale lingua passumare e osucusuco ma inanno si seppe quartiere e sempre nemmeno i piccoli paesi un neraionto che fissero una cosa troppo lusso che vogliono fare lingua per davvero siciliano che scanziamo la tassata un siciliano fu che ci vengono pensate uno casa fila che chiamano ma non sa scuido a sua casa un si fissi pigliarerà l'agnosia politichese un fissi ma la minnetta di voti e nemmeno tocca un avventura maiuscola poi di mannare una letra dice va avete a mettere in capo una cosa sicula e io ma zanna i amito danzo come porto una mappina non ranzano una bannera una pampina di fico una paese di montreal non pannica mio sana cassata penso che non so come porto va berese poi vedremo un siciliano o paro sparosa spero ghi quando arrivava all'aeroporto charleroi appresso i salamelecchi di pio pensava il suo fatto che tocca la lingua siciliana che ci può abbagnare coinnotare santiare muimoriare sciarriare rummuleare allattariare ammenseghiare babbiare checchiare sciatare scioleare insieme magari insonnare te palore cattighiano l'amori e quando sento l'annacata siculant la bocca di me compare sabbacalo che anturome cori e quando sento l'annacata siculant la bocca ramezzita abbampo come un borcano come se fosse una buffata rabbrazi vabbè chiamalla accorso mentre coscioleavo per Bruxello camminava con un'amica schifarata ferriava per poter sbrillucicanti che si raccate bene che ormai solo chi si parla quando cominciò forfante una sbrizzatina su pavidano che poi venne una scarregata d'acqua che me lascio tutto ammargiato ma morrea mi si mi ammianciano con vestito a San Marato e invece in passare per Bruxello cominciavo a la zara come un lofio un conciavo una caccia e troppo cavo patapum fece una cazza cattumula mi si pagava a canna a sentire mi troppo va il barotto qui tagliava e mi coglione va presse così ne fotte io un canuccia nudo di poi mi venne alla mucca potente e mi sa allazzare per cercare una taverna per spezzolare magari pane al live chissà babbaluce piccolina amato la cia ecco aghi ricca aghi redda mi sentiva occupare e sapicciotta merescia arrivi natica si fice tardi aspetta nuovo parlamento o palazzorino i manni ma se lo cosemo in bruxello siamo ad abban o saccio un uno vede come sogno tutto bella zizzato tale usa che ti ricco amone tra siamo intanaputi quale che va se siamo cennicchiati parla mica l'udizio risse a buon a buon addobbamo un'antica un peito sulla mattopare piglia e trasiamo mi restero all'indomani cucchiamano fast food i cristiani erano già in ta faccia mangiavano cose ribuatta perché ci si dava ruggire a fare la bella sisse mata senturire fare schitticcio come fu e come non fu ha in nata sa c' e e mentre mi votava e mi votava su sperano madonna c'era una minchia come si dice la verità parla come manci e no ha tesicolo che manciamo buono qualmente parliamo buono e chi c'è il scioglimento robosillis siamo capi scommigliare saverogna che la parlata siciliana stesse troppo ammucciata agnonata di stesse paesani che avevano a c'era cura o li chiamavano tiruna mischini s'arrunchiavano come uscire una pinata ma ora no ha si be di spicchi ci cantiamo e finito ci va assasata di essere niente mescato con nudo o siciliano è vivo vivo come una salda che sghida e una mascolata di voce cosa va a parlare studiare e amare non abbandare questa scegliata chi non ha risapienza duce duce aveva ragione chiedo noi parliamo con occhi e mano ma quando trascano i palori diventavano un imperatore magari aceduzzi musicanti e contastorie bravo martino grazie per questa grazie per questa tua testimonianza io avrei dovuto fare il cattivo interromperti per i tempi lunghi ma non me la sono sentita perché è stato troppo bello ascoltare questa tua cosa scritta mi sono accorto no no ma ti ringrazio perché è stato veramente molto bello allora adesso c'è un altro elemento che secondo me intanto saluto Maria ciao Maria c'è un altro elemento che si unisce a questi vari campi di cui abbiamo parlato e che secondo me è molto importante perché sta al passo con il cambio dei tempi oggi come oggi è vero è vero l'arte fa tantissimo gli artisti siciliani secondo me hanno fatto un lavoro straordinario nel agevolare e velocizzare il cambio di percezione quando dicevamo il siciliano è stato per troppo tempo messo in un angolo trattato come o elemento folcloristico o elemento legato ad ambienti retrogradi o addirittura criminali spesso e volentieri per via della grande filmografia legata a fatti di mafia e ci ha associato e stigmatizzato negativamente gli artisti siciliani soprattutto negli ultimi vent'anni hanno fatto un lavoro incredibile nell'aiutare a velocizzare questo processo di cambiamento facendolo passare come qualcosa di bello di musicale di simpatico di comico di sentimentale io gli devo un grande grazie secondo me anche grazie a loro siamo qui noi oggi a poter cercare di fare questo e c'è un qualcosa che sta al passo con i tempi che può aiutare tantissimo che è il lavoro degli influencer di cui si parla e non si parla ma i social non hanno confini geografici i social arrivano dappertutto e aiutano e velocizzano in questo percorso qui prima avevamo l'esperienza di Sicilian Seis quindi questo modo di tradurre in inglese molto divertente di successo e c'è adesso un altro un altro mondo di influencer che riguarda i libri a cui do la parola Zac D'Aleo Book Talker siciliano salve intanto vi ringrazio tantissimo per questa opportunità perché da pochissimo proprio l'anno scorso quando mio padre mi chiedeva ma quindi che cosa fai io non sapevo come rispondere l'anno scorso anzi in realtà quest'anno perché siamo ancora nel 2023 la Treccani ha inserito Book Talker all'interno dell'enciclopedia quindi posso dire come diceva lui a me quando gli chiedevo le parole cercalo sul vocabolario per chi non sa di che cosa si tratta TikTok è una piattaforma di intrattenimento come tantissimi altri canali di intrattenimento che possono essere YouTube o altri questa piattaforma ha una cosa importantissima e fondamentale che riesce a creare delle bolle ovvero riesce a settorializzare più persone con gli stessi interessi non solamente da un punto di vista di localizzazione ma proprio cercare di trovare quello che si vuole vedere e questi algoritmi riescono molto bene l'idea della bolla è una cosa positiva ma anche negativa una cosa positiva perché in un sistema in cui magari LGBT friendly o in una situazione di linguistica in cui io mi ritrovo a parlare in siciliano chi andrà a interagire saranno altri siciliani possibilmente un calabrese o un sardo non vedrà mai i miei video un piemontese non vedrà mai i miei video quindi un siciliano che vede un altro siciliano parlare dice che è bello finalmente sui social si parla il siciliano l'effetto della bolla è negativo perché non si riesce spesso ad entrare nelle altre bolle ma la potenza dei social è incredibile perché ci può portare a fare quello che i vecchi media non sono riusciti a fare ovvero in questo momento ci sono tantissimi influencer siciliani che stanno iniziando a inserire il siciliano all'interno delle loro conversazioni io ad esempio quando faccio delle live in cui parlo di libri quindi mi occupo di promozione socioculturale parlo soprattutto di libri fantasy quindi mi rivolgo per lo più a dei ragazzi una delle cose che amo fare è quello di inserire anche nelle espressioni della mia terra quindi molto spesso quando mi chiedono ma quindi tu di dove sei io dico che sono nomade perché mi reputo cittadino dell'Europa ma cittadino del mondo ma non perdo mai quella che è la mia origine mentre tra le proposte che penso nel ramo dell'editoria che potrebbero essere molto di aiuto a me come scrittore e a tanti altri siciliani come me l'idea di creare dei comitati o raccogliere dei testi che possono darci la possibilità di istruire anche i nostri editor da un punto io pubblico con una casa editrice siciliana nella Trisca Edizioni però il mio editor è di Milano quindi nel momento in cui io ho ambientato una mia storia urban fantasy in Sicilia e volevo inserire all'interno dei dialoghi delle storie un parlato siciliano il mio editor di Milano era un pochettino chiaramente in difficoltà al punto che le uniche cose che siamo riusciti a mantenere sono ok scendimi lo zaino perché questo me l'ha potuto me l'ha potuto accettare avendo conoscendo un principio un iter che ci possa permettere di inserire tra personaggi siciliani un testo che si può controllare perché ad esempio sempre in questo stesso libro io ho chiesto o aiuto a una ragazza che studia francese per inserire dei dialoghi in francese sapendo a chi poter sapendo di poter effettivamente parlare con qualcuno che si può reputare poi inserire all'interno dei ringraziamenti per lo studio della lingua siciliana diventa molto più semplice sia per me che per altri colleghi e questo si potrebbe fare con una raccolta di testi delle nuove tavole rotonde all'interno dei territori e anche creare una coordinazione di questo l'importantissimo è considerare ovviamente i nuovi media per dare appunto la possibilità di far conoscere anche i testi siciliani già presenti e farli conoscere anche ad altre persone che magari vorrebbero farlo e un'altra cosa che si potrebbe fare è proprio quella di creare dei bandi dei premi a livello nazionale in cui si include la lingua siciliana anche semplicemente nei dialoghi e fare questo aiuterebbe tantissimo a poter promuoverlo grazie grazie allora facciamo facciamo così perché siamo andati siamo andati già un po' fuori un po' fuori con i tempi della tavola rotonda c'era qualcuno che si è raggiunto dopo io lo metto in coda appena finiamo gli interventi se troviamo se troviamo allo spazio faccio intervenire dopo do la parola agli ultimi due che sono un progetto molto interessante che è un tema di cui non abbiamo parlato finora che è il telegiornale in lingua siciliana che è un progetto che porta avanti Trinacria.info Trinacria.info dove è Tiziana Albanese ecco qua a te la parola vi chiedo di stare nei tempi perché dobbiamo iniziare con Sì Sabine rica a tutti sono Tiziana Albanese e parlo a nome di Trinacria.info un movimento siciliano che ha commatto in Sicilia per riscatto politico sociale e culturale pensiamo che a battaglia per difendere la nostra lingua è tra le più importanti e più popolo siciliano per chiesto da nostra pagina usiamo siciliano per contare cose della nostra storia e come lingua per contare cosa succede in Sicilia ogni giorno non comunicato portiamo avanti conferenze culturali nelle scuole e nelle università manifestazioni pubbliche per ricordare i fatti storici come la rivoluzione du Vespero e chi da du Sette e Mienzo pensiamo che avere a battaglia è chi da diffondere o siciliano tra le più picceridi che a me spesso non conoscono più a lingua e ci fu insegnato caparralla è cosa da affrontare noi altri sapiamo un mece che a difendere la nostra lingua significa difendere la nostra identità e il nostro orgoglio spesso pistato di politici italiani internazionali ma non basta sulla nostra voglia e il nostro spirito per evitare che la lingua siciliana ponto futuro scomparire e venire scordata avevamo bisogno delle istituzioni che mettano avanti i politici pissarvalla ha bisogno superare sta cosa che vi da Sicilia esseri a sulla regione speciali hanno una vita riconosciuta a sua lingua madre addomandiamo allora alla regione che ha nel Parlamento europeo di dare una mano per creare un'accademia ufficiali che possa dare una grammatica alla lingua siciliana e che chista può essere insegnata negli scoli e negli universitati siciliani addomandiamo che la regione si adichiere finalmente bilingue usano siciliano negli cartelli stradali e per l'indicazione per dire ne una vogliamo magari che la nostra lingua si possa parlare nel Parlamento da Sicilia e nell'ufficio delle amministrazioni pubbliche faccio che chissi possono parlare come domande di forde forse magari che noi stiamo parlando in siciliano in questa sede può parere strano io invece penso che una cosa di forde è che ne fu negato fino a ora di parlare la nostra lingua noi altri giovani infatti nemmo a muovere e piccanciare le cose e a difendere le nostre radiche e la nostra identità non signor che siciliano vuole dire mafioso ignorante criminale che se volemo avere un futuro ama scappare dell'isola noi andiamo a dire invece che essere siciliani aveva essere un orgoglio che le nostre radiche sono chiantate in Sicilia e che il nostro futuro lo volemo creare da un dibattito soli e sannacomare ma di mare e di sole non si campa si campa di travaglio di strati di spitali di scole lingua Peccontal grazie mille Tiziana allora ultimo intervento se volete ve lo faccio fare in coppia perché siete tutte e due all'accademia della lingua siciliana che poi mi spiegate perché con la V lingua siciliana lingua che lì poi c'è il tema di come si scrivono le cose in siciliano vi siete prenotati sia Vincenzo Puglisi che Antonio Zarcone quindi decidete se riuscite in due minuti in due tre minuti a intervenire entrambi o se vuole intervenire uno e l'altro interviene dopo così iniziamo con il panel Antonio vuoi intervenire tu e poi Antonio Puglisi Vincenzo Puglisi lo faccio intervenire dopo eh? e allora lo facciamo dopo quando abbiamo il tempo Vincenzo Puglisi dov'è? ah tu sei Vincenzo vai intervi un tusco mi sentite innanzitutto ringraziamo per l'invito voglio esordire con una frase Sicilia terra indicibilmente bella sicuramente tutti conoscete Ghete quindi è inutile che ne parliamo il nostro la nostra Accademia e qui ci sono tanti rappresentanti dell'Accademia vuole proporre diversi progetti uno in particolare quello di portare la cultura e la lingua siciliana nelle scuole soprattutto scuole elementari e medie dove ci sono i cosiddetti libri bianchi quindi i bambini e i ragazzini che possono apprendere con molta facilità nel nostro progetto innanzitutto abbiamo qui il nostro avvocato Roberto Campina che ha fatto un dizionario e una grammatica della lingua siciliana e poi c'è la nostra Anette che si è allontanata che ha realizzato e l'onorevole Corrao ha già intravisto quello che abbiamo fatto è stato sono state realizzate dei fumetti uno sul caso di Sciacca e uno sulle avventure di Giuffa tutti scritti in lingua siciliana queste cose li vorremmo portare a scuola e poi un'altra cosa molto importante che il nostro progetto vorrebbe fare è quello di formare dei giovani oppure dei insegnanti che possono andare a insegnare nelle scuole approfittando dell'ora di lingua che spetta ai ragazzi per la lingua siciliana ora passo un attimo la parola la parola voleva lo facciamo lo facciamo dopo qualche altro intervento perché dobbiamo siamo già fuori di mezz'ora va benissimo ok grazie a tutti ti ringrazio Vincenzo allora noi avevamo avevamo previsto di iniziare con un intervento con un intervento del mio collega Giordi Sole che è catalano soltanto che abbiamo avuto un problema prima logistico perché è dovuto tornare a Barcellona ha registrato un video in catalano in catalano ma non abbiamo fatto in tempo a metterci sottotitoli quindi ora la questione è questa sì però qui la questione è che i traduttori i traduttori dal catalano ovviamente non possono non possono tradurre quindi io facciamo un esercizio democratico allora ci andiamo ad alzata di mano e vediamo se ho l'occhio di chi deve gestire i voti volete ascoltare il video in catalano e provare a capirlo con i vostri mezzi chi è d'accordo alzi la mano chi non è d'accordo non alzi la mano direi che c'è una maggioranza abbastanza schiacciante Peppe ok io direi di fare partire il video di Jordi Costanza piacere il català è la tretzena lingua della Unione Europea in nome di parlanti ha un nome similar di parlanti al di lingui europei come il txec i il suec i té més parlants que llengües come il danes i il fines els primers textos literaris scrits en català es remunten al segle XII i actualment hi ha més de 2.000 autors de ficció que escriuen en català a més cada any es publiquen més d'un miler de discos i 11.000 llibres en català en l'àmbit de les noves tecnologies i internet també és una llengua molt activa 6 dels 10 uets més visitats del món tenen una versió en català la viquipèdia en català és entre les 20 primeres en nombre d'articles és la dinovena llengua més utilitzada a Twitter i els principals fabricants mundials de telèfons mòbils intel·ligents permeten configurar els seus dispositius en català el nostre és un idioma que es parla en un territori de prop de 70.000 quilòmetres quadrats repartits en 4 estats Espanya França Andorra i Itàlia a l'estat espanyol es parla a Catalunya les Illes Balears el País Valencià i la Franja de Ponent a l'Aragó a Andorra on és l'única llengua oficial a la Catalunya del Nord a França i a l'Alguer a Cerdanya a Itàlia per demografia estatus jurídic presència en els mitjans de comunicació situació sociolingüística i vitalitat literària el català no es pot considerar una llengua minoritària és a dir aquelles llengües considerades menors dins de la seva extensió geogràfica però sí que es pot considerar una llengua minoritzada és a dir que històricament no ha rebut un ple suport un ple reconeixement legal o que el seu ús social per raó de la imposició d'una llengua originàriament de fora ha estat limitat aquests atacs contra la llengua el català s'ha rebut en diversos moments de la història però el més recent és sense dubte la dictadura la llarga dictadura de Franco que va prohibir l'ús públic de totes les llengües de l'estat espanyol tret del castellà i va dur a terme una repressió política contra la llengua i la cultura catalanes amb l'objectiu d'exterminar-les durant els 40 anys de règim franquista el català va desaparèixer dels organismes públics es perseguia i reprimia qui el parlés públicament les institucions culturals van ser clausurades l'ensenyament de caire feixista no podia ser en català es va prohibir la publicació de llibres en català es va imposar el castellà al cinema a la ràdio i la premsa fins a reduir l'ús del català només en l'àmbit familiar amb la mort del dictador i l'arribada de la democràcia als anys 70 es va restaurar el govern propi de Catalunya que s'anomena la Generalitat es va aprovar l'Estatut d'Autonomia que reconeix el català com a llengua oficial i es va anar recuperant mica en mica la llengua en diversos àmbits com l'administració pública els mitjans de comunicació i l'escola establir el català com a llengua d'ensenyament ha estat precisament el que ha permès que tots els nens i nenes que estudien a Catalunya vinguin d'on vinguin siguin bilingües i dominin tant el català com el castellà al final de la seva escolarització es tracta d'una política productiva de foment de la llengua pròpia del nostre territori que conviu amb el castellà que recordem-ho és la segona una llengua materna més parlada del món el model que coneixem com d'inversió lingüística d'ensenyament del català a l'escola del català i en català ha tingut com a objectiu cohesionar la societat i oferir la igualtat d'oportunitats a tots els infants fons fos quin fos el seu origen l'ús de la llengua com a vehicle d'integració ha estat fins ara tot un èxit però els partits polítics de la dreta PP i Vox extrema dreta seguint el camí empres pel partit Ciudadanos estan destruint bona part de la feina que s'ha fet al llarg d'aquests anys per protegir i promoure el català la seva guerra particular contra el català els ha portat per exemple a eliminar el català com a única llengua a l'escola a les Illes Balears és a dir que ara les famílies poden escollir si els seus fills estudien en castellà o català i anul·lar l'abonament municipal a determinades revistes en català en algun poble del País Valencià entre d'altres una campanya contra la llengua catalana que s'ha de situar en un context més general de davallada de l'ús del català pràcticament arreu en només 15 anys el català ha perdut més de mig milió de parlants i només un de cada tres ciutadans dels països catalans parla català habitualment cal doncs continuar la nostra lluita per protegir i promoure la llengua que ens és pròpia un moment clau en aquesta lluita és el debat que tenim actualment sobre la taula que tenen els caps d'estat i de govern de la Unió Europea d'acceptar el català com a llengua oficial de la Unió reconeixer el català com a llengua oficial de la Unió no només repararà un greu geohistòric contra la nostra llengua sinó que li oferirà un grau més de visibilitat protecció jurídica i reconeixement internacional i per tant esperem que aquesta oficialitat pugui arribar ben aviat moltes gràcies ammettetelo che state applaudendo sulla fiducia quanti sinceramente quanti di voi hanno capito cosa ha detto Jordi in català a parte tu che quanti sinceri sinceri ok dai c'è ok c'è un buon numero comunque farò in modo di riprendere il video mettergli i sottotitoli e pubblicarlo sui social Jordi Sole oltre a essere un mio collega di gruppo vedete che lì il simbolo del gruppo porta due nomi che sono Greens e EFA quindi Greens sono i verdi ambientalisti EFA è l'altra sigla che rappresenta European Freedom Alliance che è un gruppo in cui ci si batte è una parte del gruppo in cui la connotazione è molto sulla protezione dei territori e della tradizione e della cultura di cui Jordi Sole è il presidente quindi oltre a essere un stimato collega è anche il maggiore rappresentante di questa parte del nostro gruppo allora adesso andiamo sulla parte accademica e partiamo da lontano partiamo da lontano non troppo lontano partiamo da New York da una una persona un professore che nel momento in cui perché ovviamente come dicevo come dicevo prima io ci tenevo molto a coinvolgere almeno in parte una rappresentanza dei siciliani all'estero perché sono una parte anche numericamente molto importante che in maniera diversa e non spesso coordinata fa parte di questa enorme ricchezza culturale che abbiamo ovviamente il primo posto che è numericamente in patto sono gli Stati Uniti d'America ho chiesto un po' alle grandi associazioni ma chi potrebbe tutti mi hanno fatto un nome il professore Cipolla professore Cipolla e allora io ho l'onore di ospitare e di dare la parola qui in quest'aula in questo evento a professore che dono Cipolla ci racconti mi scuso innanzitutto di parlare che il mio intervento sarà in inglese la mia idea era in effetti era in effetti di parlare a gente che magari non aveva la capacità di parlare a gente che non appartiene alla parrocchia diciamolo così e quindi ho pensato di parlare in inglese e mi scuso per chi non capisce però c'è la traduzione quindi non c'è problema ladies and gentlemen I am grateful and honored for the opportunity to address this distinguished assembly and I extend my appreciation to the honorable Ignazio Corrao and his team for organizing this event that will shine a light on Sicilian language and culture subjects that have been central to my life for over three decades my activities in this area have earned me the affectionate title of professional Sicilian as bestowed upon me by one of my Spanish colleagues at St. John's University my academic path however initially led me in a different direction before turning my attention to Sicilian poetry I was interested in reading Italian literature through Jungian psychology my doctoral dissertation to provide some context was entitled The Archetype of the Labyrinth and its manifestations in Petrarch Despite my Sicilian roots having been born in Francavilla di Sicilia near Taormina and having completed the magistrale before emigrating to the United States my exposure to poetry written in Sicilian in the Sicilian language was practically zero yet I was a native speaker of Sicilian as most people of my age were at the time we learned Italian as a second language in school the spark that ignited my passion for the Sicilian language and culture occurred when I was asked to recite a couple of Sicilian poems at an event dedicated to Sicilian poetry at NYU my alma mater I chose Giovanni Meli's poem Locchi famously translated into German by Wolfgang Goethe the poem began with these lines the first line reach deep into my soul in Italian did not have the same effect why because because occu rekindled childhood memories when Sicilian was the language I learned at my mother's lap a language of the heart it brought back vivid images and emotions that had lain dormant in my subconscious it may be worth mentioning that my mother affectionately called me Tanuzzo which perhaps contributed to this deep connection later when translating the poetry of Antonio Veneziano the greatest Sicilian poet of the Renaissance who wrote exclusively in Sicilian because he did not want to be a parrot mouthing other people's words I understood the sentiment more profoundly he eloquently articulated his choice stating and I'm quoting a great emotion cannot be better expressed than in the mother's language profound poetry crafted in the language of the heart possesses a transformative power akin to the melodies of Orpheus capable of stirring the depths of the human soul of moving trees and even stones I would like to illustrate this transformative power with a true story in 1995 I was honored with the Trinacria d'argento award by an organization based in London recognizing my dedication to preserving the language and culture of Sicily the ceremony convened 700 Sicilians in a hotel room ballroom as is the case when so many Sicilians gather conversations flowed without restraint creating a cacophony that made it impossible to hear the important speakers that had been invited to the event like the Archbishop of Palermo and the renowned movie director Franco Zeffirelli who struggled to have their voices heard Zeffirelli was completely upset and offended and walked off the stage I was slated to speak next and anxiety washed over me if such important people were practically ignored what hope did I have the prospect of disaster loomed but when I finally was introduced I improvised a form of captatio bellevolentia and said I was delighted to be among Sicilians my favorite people this remark garnered some attention allowing me to begin Lingua e Dialetto by Ignatio Butitta which by the way that poem was published in the first issue of Arba Sicula which is my journal so I started reciting in Sicilian un popolo mettitelo agatina spugliatelo attuppatici a bucca e ancora libero miraculously the chatter began to subside encouraged I continued with the second stanza levatici o passaporto scusate levatici o travaglio o passaporto a tavola une mancia un letto une dorme e ancora ricco the noisy ballroom was more quiet now and by the next stanza un popolo diventa povero e servo quando ci arrobbano a lingua adutata di pace e perso per sempre you could hear a pin drop in that ball room I recited the entire poem to an audience whose disposition had been miraculously transformed I attribute this shift not to my oratory skills but rather to the profound power of the Sicilian language a language that if you are Sicilian reaches deep into your core establishing an emotional an immediate emotional connection the discovery of the inherent power of Sicilian poetry marked a pivotal moment in my life this revelation occurred as I grappled with the identity crisis that all immigrants face I could not identify myself with the image of Sicilians portrayed by the American media nor could I wholly embrace my new American identity I felt deracinated who was I I experienced a state well described by my friend Joseph Tuziani great poet in his poem the song of the bicentennial when he exclaimed am I a man or two strange halves of one the return to my roots by full I the return to my foot began when I fully embraced my Sicilitude which meant the Sicilian language I began to translate the works of Giovanni Meli l'origini dell'omunno Don Quixotti e San Giupanza moral fables and the lyric poems Meli speaks to the world with my American voice as do most of the important poets too numerous to mention here who have written in Sicilian that I have translated my involvement with Arbasicula began in 1987 as editor and president of your association committing myself to reclaim our Sicilian heritage correcting the stereotypes and presenting a more authentic portrayal of Sicilian whose journey of integration into American society had been not easy and certainly painless my mission extended to educating not only Americans but also Sicilian Americans many of whom arrived on American shores impoverished and illiterate knowing little about the island's history and its contribution to Western civilization we needed to create a fact-based information system to counter misconceptions prejudices and stereotypes commonly embraced by the media two examples suffice most people in the US believe wrongly that Sicilian is a corruption of Italian and that it is an oral language that cannot be written through Arbasicula and my Lagos the publishing company I have sought to become a bridge between Italy and America and particularly focusing on Sicily we have created a library about 150 books dealing with Sicilian language and culture I founded Poets of Arbasicula a series of bilingual Sicilian English volumes modern and ancient poets the poetry of Ignazio Bottita by the way I brought a whole bunch of books that you can look at over there was number 20 in the list the second series called Sicilian Studies has already 30 volumes in print Siciliana studies on the Sicilian ethics and my learn Sicilian and learn Sicilian two two textbooks two textbooks used to teach the language in America and it is being used in New York in Buffalo New Orleans and Philadelphia an interactive pronunciation guide our members have created English Sicilian dictionaries an electronic Sicilian translator and other tools Arthur Diely one of our members has translated the 15,000 proverbs collected by Giuseppe Pitre is my time up I'll just end with the idea I invite you to just look at the books that we have produced which is ve lo dico in italiano ho portato molti libri che sono esposti lì sul tavolo e sono soltanto le copie elettroniche quelle sono tutti libri pubblicati da me nella casa editrice in Vegas grazie per l'attenzione grazie grazie soprattutto dal nord america se invece parliamo di Sicilia c'è un nome che torna sempre ogni volta che si parla lingua siciliana dialetto studi sul siciliano il nome che tutti mi hanno sempre fatto è il nome del professore Ruffino ora toccherebbe intervenire al professore Ruffino ma siccome c'è uno sciopero dei treni e l'assessore Durano ci rischia di perdere l'aereo invertiamo l'intervento io so già che l'assessore e il professore si sono parlati a Palermo quindi l'assessore è già a conoscenza delle sue posizioni molte cose le abbiamo già dette ieri sera e anticipate nel momento di tavola rotonda di poco fa quindi la parola adesso va all'assessore Turano che è l'assessore all'istruzione e alla formazione e ha il compito di portare al governo regionale questa serie di proposte che stiamo mettendo insieme per finalmente dare una nuova vita al siciliano Assessore Turano grazie Ignazio grazie a tutti grazie per l'invito che ho raccolto di buon grado perché mi sentite? ecco ho visto che tanti di voi hanno detto si sente l'impressione dicevo il raccolto di buon grado l'invito che mi ha rivolto il mio amico Ignazio Corrao per porre attenzione ad un progetto di di valorizzazione della lingua siciliana è una cosa che mi affascina è una cosa che mi porta a fare una riflessione che per certi versi riprende l'intervento del professore Costa se non ricordo male che mi sono posto il problema di quante di quante lingue siciliane ho conosciuto non per la differenza geografica della provenienza ma a casa mia la lingua siciliana che parlavano i miei nonni non è la lingua siciliana che parlano i miei figli la lingua siciliana che parlavano i miei nonni era frutto un poco dell'ignoranza non conoscevano la lingua italiana al più la lingua italiana era la lingua scritta la lingua siciliana che parlano i miei figli invece è una cosa completamente diversa conoscono il siciliano conoscono lingue straniere conoscono anche conoscono l'italiano volevo dire conoscono lingue straniere conoscono anche il siciliano e io onestamente devo essere sincero apprezzo l'entusiasmo di tanti di voi oggi traspare una linea comune cioè quella di costruire un'identità siciliana e farla apprezzare di nuovo e questo è il vero problema lo possiamo fare per legge lo possiamo fare per decreto onestamente no abbiamo fatto una legge e abbiamo fatto un decreto e io sono contento che questa commissione sarà preseduta dal professore Ruffino con il quale ho condiviso la strategia da mettere in campo la possiamo fare se tutti condividiamo un sentire comune e poi lo trasformiamo con corsi di formazione per corsi didattici che nelle scuole entrano e parlano con tutti e io immagino che anche questo non basta forse è meglio un coinvolgimento delle famiglie insomma l'identità quando si perde non si riacquista in un minuto è un processo lungo perderla è un processo ancora più difficile e lungo riacquistarla dobbiamo lavorare per questo quindi tutte le proposte le iniziative che verranno fuori da questo documento che io onestamente non conosco però sul quale già manifesto grande apprezzamento e disponibilità le metteremo in campo le metteremo in campo anche ampliando il comitato che abbiamo fatto e costruendo un meccanismo di condivisione che sia quanto più largo possibile sono interessato a difendere e riventigare la mia identità spero di poter dire alla fine del mio mandato di essere fiero di riuscire a tramandarla nel modo possibile mi scuso con tutti voi devo rientrare perché ho un impegno Mimmo ti dico una cosa da rappresentante poi ti ringrazio intanto ovviamente per essere qua e grazie per il tuo intervento e per ovviamente esserti preso l'impegno di portare al governo regionale siciliano questo insieme di proposte che entusiasmano i siciliani io ti dico una cosa da rappresentante politico a rappresentante politico secondo me noi in Sicilia abbiamo un problema grosso soprattutto paragonati anche con altre regioni d'Italia faccio l'esempio sull'altra mia regione circoscrizione elettorale che è la Sardegna cui peraltro sono legato pure da situazioni familiari in Sardegna diciamo la logica di essere sardi prima che rappresentanti politici di XY partito nazionale è una cosa abbastanza normale e comune è cercare di utilizzare anche la lingua come elemento distintivo e rappresentativo io sai benissimo sono lontanissimo politicamente dal presidente della regione Sardegna Solinas ma ho apprezzato il fatto ero presente in consiglio regionale che nel consiglio regionale sardo che nel suo discorso di insediamento ho fatto un discorso di mezz'ora circa interamente in sardo che è una cosa totalmente impensabile paragonato alla Sicilia vedere un presidente in regione ma anche assessori deputati che si esprimono in siciliano io credo che noi abbiamo un problema che non so quanto vada indietro nel tempo che la classe politica siciliana prima di essere autoctona quindi di rappresentare la Sicilia rappresenta partiti nazionali noi da questo momento di incontro dovremmo cercare di cambiare pure questo tipo di approccio e ragionare prima come siciliani e poi come appartenenti a famiglie politiche nazionali ed europee perché qua siamo e la collega Maria Arena me lo conferma apparteniamo a famiglie politiche in cui ci sono partiti di tutte le nazioni e regioni d'Europa quindi questo secondo me è un percorso che parte da qua dalla lingua parlo del catalano quindi voglio dire allora i catalani ci provano a parlarlo da tempo parliamo ma non hanno le traduzioni a un detto della battuta siamo tutti interessati a valorizzare un'identità siciliana io mi impegno a mettere in campo le iniziative che servono lo faccio con convinzione poi avere una matrice comune un sentire comune questo lo abbiamo io non sono qua soltanto perché noi due siamo amici si dicevo non sono non sono qua io ti ho fatto questa domanda per farti perdere il treno non per altro non sono qua soltanto perché siamo amici o perché proveniamo dalla stessa area geografica sono qua perché il progetto è intrigante è una sfida che deve coinvolgere tutti e siamo tutti pronti a fare la parte che dobbiamo fare ok grazie Mimmo grazie permettetemi di salutare il professore Cipolla che non conoscevo ma ho apprezzato grazie e buon lavoro io passerei subito ora la parola a colui che è stato sempre indicato da tutti e che come il massimo rappresentante degli studi sulla lingua siciliana dal punto di vista universitario in Sicilia che ho l'onore di ospitare in questo panel e a cui do subito la parola il professore Ruffino grazie di essere qui professore quanto tempo quanto tempo ho a disposizione dieci minuti se riusciamo a farlo anche di meno anche otto non sarebbe ma no proprio nei proprio nei due giorni iniziali della settimana che così bene va a concludersi la voce arriva che così bene va a concludersi sono stati celebrati a Palermo in un importante convegno i 70 anni del centro di studi filologici e linguistici siciliani e in queste due giornate sono state ricostruite i grandi filoni di intervento e di attività del centro che in questi 70 anni sono stati sviluppati e ampliati via via la prospettiva filologica naturalmente con la pubblicazione di testi antichi siciliani medievali e dell'unica edizione critica esistente della scuola poetica siciliana in tre grossi volumi e poi la prospettiva linguistico lessicografica con i grandi vocabolari sia generali che di singole varietà locali e poi la prospettiva storico-linguistica proprio di questi giorni è la pubblicazione dell'ultimo dei volumi dei lessici siciliani con la ricostruzione dei rapporti tra Sicilia e Francia a partire dall'alto medioevo dall'epoca normanna e poi la prospettiva geolinguistica con l'atlante linguistico della Sicilia di cui sono usciti oltre 50 volumi e poi la prospettiva sociolinguistica con le indagini capillari all'interno della della società siciliana poi quella onomastica diretta da Marina Castiglione con i microtoponimi e i blasoni popolari oltre ai soprannomi di cui è già uscito un mio volume qualche anno fa infine gli archivi l'archivio sonoro cioè delle parlate delle migliaia di ore di parlato spontaneo raccolto in quasi tutti i centri della Sicilia e da qualche anno l'archivio dei testi popolari cioè diari lettere e qualsiasi tipo di scritto di dei cosiddetti semi analfabeti si parlava di Vincenzo Rabbito prima che sono testi di grandissima importanza sociale e linguistica e infine la prospettiva didattica e scolastica su cui mi soffermerò brevemente con la pubblicazione di una quindicina di volumi dedicati alla scuola agli insegnanti ecco io proprio vorrei partire da qui il una trentina di anni fa io vogli condurre una ricerca capillare in gran parte delle scuole siciliane chiedendo a bambini di quarta e quinta elementare parlo dei primi anni 90 metà anni 90 attraverso la collaborazione di dirigenti e di insegnanti di rispondere a questa semplice domanda per iscritto qual è secondo te la differenza tra la lingua italiana e il dialetto siciliano dico il dialetto siciliano dico dialetto non è parola d'offesa dialetto siciliano grazie no perché devo essere chiaro su questo ecco i bambini hanno risposto in maniera impressionante dando valutazioni del dialetto ed esprimendo pregiudizi devo dire terrificanti il volume è stato poi pubblicato dall'editore Sellerio con il titolo di uno dei concetti espressi da questi bambini il titolo è l'indialetto ha la faccia scura cioè coniugando il pregiudizio linguistico con il pregiudizio razziale terribile io voglio leggervi uno di questi giudizi di una bambina di nove anni dell'albergheria rione popolare di palermo questo giudizio è pubblicato in un saggio pubblicato dall'accademia della crusca il concetto di dialetto oggi questa bambina dell'albergheria scrive testualmente scusatemi forse arriverò ai dieci minuti testo fedelmente trascritto nel volume è ripreso mio signore ti chiedo grazie di avermi creato me io vorrei dirti perché non hai creato un letto anche ai poveri o aiutare i drogati è questo che non capisco forse ci vuoi mettere in prova ma come vedi mio signore nessuno fa niente è per questo che preghiamo in te per aiutarli dialetto io signore io vorrei aiutarli ma non so cosa fare ti prego aiutali tu e fai smettere questa guerra caro signore vorrei anche che tutte le persone smettono di parlare in dialetto anche io lo parlo ma non tanto quando gioco e dico anche parolacce ma però mi scappa e dopo mi pento il dialetto alla stregua delle più grandi sciagure dell'umanità ho voluto leggervi questa lettera perché da allora il nostro impegno all'università nel centro di studi filologici e linguistici siciliani è stato quello di intervenire nella scuola perché la scuola ha avuto enormi responsabilità ed è stata per nostro pressante intervento varata la legge regionale numero 9 del 2011 è stato faticoso ma ci siamo riusciti ne parlerò tra poco in conclusione però voglio dirvi soltanto che il mio è l'intervento di un linguista di un dialettologo io ho vinto la cattedra universitaria di dialettologia italiana e dico perché sia chiaro che non può esservi storia della lingua italiana senza storia dei dialetti italiani e parlo del siciliano come del napoletano come del veneto attenzione è perché devo essere chiaro e io in quanto presidente del centro di studi filologici e linguistici siciliani devo riaffermare che lo studio e la valorizzazione del dialetto deve tener conto di questo non esiste storia della lingua senza storia dei dialetti e l'apporto del siciliano alla lingua italiana è stato enorme come sappiamo e sapete un secondo irrinunciabile postulato è questo che la Sicilia va considerata nella prospettiva della storia linguistica non soltanto italiana ma anche europea e mediterranea perché qui dalla Sicilia è stato il centro ha pubblicato un volume parole migranti le parole sono arrivate da tutte le parti e si sono stratificate e affermate e proprio cinque giorni fa abbiamo a Palermo pubblicato il primo dei volumi dell'Atlante linguistico mediterraneo ma che c'entra la Sicilia c'entra perché la Sicilia è al centro del mediterraneo ed è la chiave per comprendere i percorsi di lingua e cultura nell'intero mediterraneo dal Portogallo al Mar Nero compreso ma certamente alla Turchia e a tutto il vicino Oriente e a tutto il Maghreb e l'Africa settentrionale da qui passa forse ecco la proposta è il primo di dieci o dodici volumi in centosessantacinque punti sono stati raccolti i materiali forse il Parlamento europeo può darci una mano perché il lavoro è stato smisurato e vi è un comitato scientifico che va dalle università dall'università di Barcellona all'università di Atene questo decenni di lavoro ecco ora tutto ciò va attuato unendo l'impegno contestuale dell'università della scuola ho finito della società civile della pubblica amministrazione che faccia buone leggi si faccia anche consigliare qualche volta su come farle e che soprattutto le attui io voglio concludere leggendo soltanto poche parole delle linee guida della legge regionale che prevede non l'insegnamento del dialetto nella scuola cioè c'è l'ora di geografia l'ora di italiano e l'ora di dialetto siciliano ma la riflessione sulla cultura dialettale deve attraversare tutto intero l'insegnamento a proposito di inglese che gli insegnanti di inglese e di italiano si mettano d'accordo per far vedere la grande parentela che c'è tra parole siciliane attuali e inglesi attuali a cominciare da piercing e pirciari perché sono stati i normanni nel dodicesimo secolo a portare il loro lessico contemporaneamente nella Gran Bretagna meridionale e in Sicilia questo va e quindi l'insegnamento deve essere trasversale gli interventi didattici programmati nelle scuole di ogni ordine e grado potranno essere correttamente attuati solo se la cultura regionale la storia le vicende linguistiche la letteratura sarà considerata come parte integrante della storia sociale linguistica letteraria d'Italia d'Europa del Mediterraneo altro che trullallero trullallà concludo così come no scusate così come ho iniziato con il testo di una bambina di nove anni stavolta concludo con il testo di un bambino di dieci anni raccolto con una tesi attraverso una tesi di laurea magistrale l'anno scorso cos'è secondo te la differenza tra lingua italiana e dialetto scrive il bambino non cito a memoria perché non posso scordarlo la lingua italiana parla il dialetto suona grazie bene grazie 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 professore grazie professore ruffino per per il suo intervento a palermo durante il congresso dell'altro ieri sono tante tante cose da fare da sviluppare e ora introduco il prossimo di intervento che rappresenta quella che noi stavo dicendo stavo dicendo questo rappresenta un'istituzione che è un po' una parola magica perché quando si citano l'unesco è vero o no quando sentite unesco se è un bene protetto dall'unesco materiale o immateriale automaticamente è fantastico stupendo vero o no chiese monumenti incredibili incredibili cose che in sicilia la sicilia è piena di appunto beni patrimonio dell'umanità protetti dall'unesco ma magari c'erano il giorno prima della protezione e non valevano lo stesso quando si parla di lingua quando si parla di lingua o dialetto quando si parla di siciliano e ne abbiamo parlato varie volte spesso e volentieri è stata chiamata in causa anche l'unesco che abbiamo invitato in questo tavolo perché tra le varie cose di cui l'unesco si occupa c'è anche il patrimonio immateriale quindi ci sono anche le lingue e il siciliano è stato definito in uno dei vostri rapporti mi correggerai e spiegherai come una lingua vulnerabile che quindi rischia in qualche modo di scomparire diciamo con questa introduzione io do la parola alla dottoressa Costanza Fidelbo che rappresenta Fidelbo che rappresenta qui l'unesco grazie onorevole Corrao non so se mi sentite dicono che si debba utilizzare il microfono sulla sinistra quindi ci spostiamo tutti un po' più in qua buongiorno buongiorno a tutti buon pomeriggio direi la mia presenza qui in effetti come diceva l'onorevole Corrao che ringrazio per aver invitato un esco a questo tavolo perché in effetti un esco è molto spesso più conosciuto per una convenzione che è la convenzione del patrimonio mondiale quindi per la convenzione del 72 per cui si dice questo è un bene un esco questo è un sito un esco in realtà il mandato di un esco è molto più ampio di così e nell'arco del mio intervento spero di darvi almeno una breve misura diciamo una piccola misura di ciò di cui un esco si occupa specialmente in materia di lingue per me oggi è un onore presenziare a questo evento non solo in qualità quindi di funzionario internazionale dell'un esco che ricordiamo e l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione la scienza e la cultura ma anche e a questo punto direi soprattutto da donna siciliana catanese più precisamente e quindi da portatrice di quelle identità di quel patrimonio linguistico ovvero culturale la cui salvaguardia è oggetto di discussione odierna i relatori ben più diciamo autorevoli di me ne hanno dato atto cos'è la lingua per un esco e cosa può essere il siciliano per un esco ai sensi della convenzione del 2003 che è la convenzione un esco sulla salvaguardia del patrimonio mondiale nella categoria di patrimonio intangibile rientrano le tradizioni ed espressioni orali ivi incluso il linguaggio in quanto veicolo di patrimonio vivente quindi più che il linguaggio per sé è il ruolo che il linguaggio ha nel trasmettere e nell'essere depositario di patrimoni intangibili di pratiche di tradizioni di culture la straordinaria e principio caratteristica di una lingua risiede proprio nella sua capacità di evolversi di ben disporsi alle contaminazioni di essere malleabile eppure rigida a tratti immutabile nelle sue norme fondamentali le lingue che di per sé incarnano la più alta manifestazione di diversità culturale e che pertanto potrebbero apparire strumenti divisivi sono invece connotate da una cifra spiccatamente democratica poiché possono essere imparate e parlate da chiunque divenendo ponte tra comunità gruppi ed individui le lingue sono spesso la manifestazione prima dell'incontro tra popoli ed il contatto interlinguistico fonte primaria di reciproco arricchimento lo dimostra tra gli altri chi la nostra lingua la fa propria approdato magari per caso nella nostra terra da molti chilometri e miglia di distanza ed in quella stessa lingua trova una nuova disperata speranza che innanzitutto si estrinseca nella possibilità di rivendicare e pertanto esercitare i propri diritti fondamentali la lingua è infatti una parte costitutiva dell'essere umano nonché uno strumento irrinunciabile per avere accesso alla cultura alla giustizia all'istruzione all'assistenza sanitaria e a molti altri diritti fondamentali e beni pubblici nel tempo alcuni gruppi linguistici sono stati emarginati oggi siamo qui in parte anche per questo a rivendicare il diritto a salvaguardare la lingua siciliana e quindi il gruppo viene emarginato la comunità viene emarginata ma soprattutto la lingua rischia o ha rischiato di cadere in disuso in un contesto globale come invochiamo sempre più l'importanza della diversità dell'equità dell'inclusione parimenti siamo chiamati ad estendere questi principi anche al riconoscimento delle lingue meno utilizzate tali lingue incarnano l'essenza stessa della diversità umana dando voce a visioni del mondo a storie ad identità culturali uniche ciò nonostante e questi sono dati appunto UNESCO si stima che oltre il 40% delle 7000 lingue del mondo oggi ancora in uso sia a rischio di estinzione fenomeno questo che richiede una risposta condivisa e corale e rispetto al quale UNESCO si colloca in prima linea per offrire soluzioni vediamo cosa fa UNESCO e come UNESCO può essere conosciuta al di là di quelle che sono appunto la vulgata del questo è un sito patrimonio mondiale questo è un sito UNESCO allora è importante allora è un marchio ma cosa ci sta dietro per esempio insieme all'UNDESA che è il dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite insieme ad altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite l'UNESCO sta attualmente lavorando alla costruzione di una comunità globale per la conservazione la rivitalizzazione ed il sostegno delle lingue indigene di tutto il mondo il nostro impegno per la promozione della diversità linguistica trova esemplare espressione nel decennio internazionale delle lingue indigene opportunità unica per promuovere la trasmissione di tali lingue alle generazioni future ponendo quindi le fondamenta per società più resilienti ma soprattutto per società più sostenibili in questa cornice 25 piani d'azione nazionali mirati a promuovere l'uso delle lingue indigene sono in fase di elaborazione o sono stati finalizzati l'America del Sud ne è capofila con paesi come Colombia Guatemala Bolivia Brasile Perù che stanno intraprendendo attività ambiziose per la rivitalizzazione delle lingue locali l'auspicio è che tali piani d'azione nazionali possano fungere da ispirazioni per progetti di salvaguardia anche di lingue che non rientrano a pieno titolo nella definizione di lingue indigene in una società sempre più globalizzata e ne abbiamo sentito parlare mi preme sottolineare anche il lavoro dell'UNESCO in materia di potenziamento digitale delle lingue oggi infatti le lingue parlate più diffusamente sono per oltre il 75% quelle utilizzate su internet l'apertura degli algoritmi e l'integrazione delle lingue meno diffusa nelle piattaforme dei social media rappresentano pertanto potenti strumenti proprio per difendere e promuovere e rafforzare il multilinguismo a tal fine nel 2003 gli stati membri dell'UNESCO hanno adottato una raccomandazione relativa alla promozione e all'uso del multilinguismo e all'accesso universale al cyberspazio tale raccomandazione pone le basi per lo sviluppo di contenuti e sistemi multilinguistici facilitando l'accesso alle reti e ai servizi nonché lo sviluppo di contenuti di pubblico dominio per supportare l'attuazione di queste raccomandazioni come spesso fa l'UNESCO ha sviluppato degli strumenti che sono strumenti disponibili sul sito dell'UNESCO e quindi accessibili a tutti tra questo c'è per esempio il toolkit che si chiama Digital Initiatives for Indigenous Languages quindi iniziative digitali per le lingue indigene e che consente è stato sviluppato con il supporto di Global Voices e fornisce una guida proprio per promuovere la diversità linguistica nel cyberspazio un'altra interessantissima mi avviso iniziativa dell'UNESCO anche se non unica come ci ricordava il professore Ruffino è la creazione del World Atlas of Languages quindi l'Atlante Mondiale delle Lingue nell'ambito del quale appunto la lingua siciliana è stata considerata da un lato lingua madre dall'altro lingua in pericolo dove vengono registrate le lingue di tutto il mondo e quindi il cui archivi online vi invito a consultare e perché no a contribuire ad arricchire l'Atlante adotta una definizione ampia di lingua che ricomprende qualsiasi sistema di comunicazione creato definito descritto ed utilizzato cioè nonostante l'attenzione principale chiaramente rivolta alle lingue umane scritte e o parlate utilizzate all'interno di e tra paesi regioni e comunità questo cambiamento di paradigma nella definizione appunto di lingua ai sensi dell'Atlante porta con sé una serie di implicazioni che possiamo riassumere in tre punti la lingua è portatrice del patrimonio umano in termini identitari storici e culturali credo che ciò sia pacifico in questa sala la lingua costituisce un deposito di conoscenze locali per ciò che concerne ad esempio l'identità e le questioni etniche le conoscenze tradizionali e la biodiversità e non da ultimo la lingua è una risorsa economico-politica a livello locale regionale nazionale e globale e va dunque considerata e gestita quale asset strategico al pari delle risorse naturali umane e finanziarie in un'ottica di più ampio sviluppo sostenibile sociale e culturale in altre parole la lingua è da considerarsi lo scrigno della cultura di un popolo e nel caso della Sicilia altro non è se non l'estrinsecazione di una storia millenaria promuovere iniziative sulla lingua siciliana non significa solo rappresentare una regione italiana il siciliano è una lingua unica in cui convivono appunto autorevoli voci prima di me l'han detto influenze greche arabe catalane francesi e spagnole e che rappresenta una parte distintiva dell'Italia la lingua siciliana dimostra quotidianamente la propria vitalità e l'augurio dell'UNESCO è che la condivisione di buone pratiche di salvaguardia possa ampliare ulteriormente il riconoscimento di questa lingua madre ispirando al contempo analoghe e positive esperienze signore e signori è per me ed è stato per me e lo sarà perché questo giorno non lo dimenticherò proprio per questa duplice veste che ho oggi qui da funzionare internazionale e da donna siciliana è stato per me un vero onore presentare oggi in una così prestigiosa sede il lavoro dell'UNESCO per la salvaguardia e la promozione delle lingue indigene più che semplici strategie tali progetti vanno interpretati come percorsi distintivi e precipui che guidano la comunità internazionale verso l'obiettivo ultimo di preservare rafforzare e rivitalizzare le lingue nel lungo termine le lingue sono i veri e propri tesori che abbiamo il dovere di trasmettere alle generazioni future garantendone la vitalità prima ancora della sopravvivenza l'UNESCO aplaude agli sforzi per promuovere il patrimonio linguistico in tutto il mondo ed è qui oggi per dimostrare il proprio supporto a tutte quelle iniziative volte a promuovere il pluralismo culturale e a riconoscere la diversità linguistica quali fonti di ricchezza globale permettetemi di chiudere richiamando uno dei più grandi scrittori del novecento europeo che non a caso sosteneva che se con l'italiano si esprime il concetto della cosa con il siciliano se ne manifesta la sua essenza e permettetemi anche una chiusa campanilistica citando nuovamente Pirandello quando affermava che tra tutte la lingua siciliana è incontestabilmente la più pura la più dolce e la più ricca di suoni grazie e vorrei un proseguimento grazie grazie mille Costanza è sicuramente il tuo intervento il tuo intervento è importante perché sposta anche l'attenzione l'attenzione in una direzione diversa rispetto a quella che era stata diciamo annunciata dal punto di vista accademico ora io interrompo un attimo il passaggio accademico e chiamo sul palco Anna Mirana eccola qua è arrivata ciao Anna hola Anna benvenita allora Anna Anna è una collega che viene dalla Galizia che è una una terra a cui io sono particolarmente affezionato perché ci ho vissuto ci ho studiato una cosa che una cosa che ricordo sempre con piacere è che quando quando sono andato nell'università della Corugna la prima volta l'università da Corugna a Corugna in Gallego mi hanno chiesto i professori mi hanno chiesto se volevo seguire o fare gli esami in Gallego in Galiziano o in Spagnolo in Castigliano io ovviamente ho seguito e fatto in Spagnolo Castigliano perché era la lingua che conoscevo ma notavo come c'era questa possibilità questa opzione e molti dei quelli che poi sono diventati i miei amici durante quell'anno Galiziani i Galleghi parlavano studiavano facevano gli esami in quella che è la loro lingua allora di questa esperienza in che modo viene tutelata e viene e viene trattata la lingua il Gallego il Galiziano rispetto all'ordinamento statale nazionale spagnolo rispetto al Castigliano allo spagnolo ce lo racconta Anna Miranda che è una mia cara collega europarlamentare Anna tienes la palabra Anna salutiamo il siciliano no? salutiamo la galiziana salutiamo i siciliani vado a parlare un po' in italiano ma l'italiano un po' dopo in spagnolo perché non c'è la cabina del portoghese e non so se i amici della cabina spagnola puoi parlare portoghese no so devo parlare spagnolo o anglese è più facile per tutti è più facile grazie mille a te per l'invitazione grazie mille per la possibilità di parlare di una lingua che non c'è una lingua morta è una lingua viva è una lingua che deve essere riconosciuta e non sei più non sei più parlare so cambio ora cambio al castellano però me gustaría parlar en gallego o me gustaría parlar en gallego portugués questa vez non procede perché efectivamente non tenemos esa lingua en la cabina però igualmente nostri queridos colegas della cabina española vanno a poter respirar mentre io parlo vero non sta male un saludo molto grande io sono la eurodiputata del bloco nacionalista galego il bloco nacionalista galego è una organizazione politica di Galiza di mio paese noi diciamo nostro paese nostro paese che sta integrata nel mismo gruppo che il gruppo di Ignacio il gruppo di los verdes Alianza Libre Europea nostri pertenecemos alla Alianza Libre Europea e el pertenece de forma independiente a los verdes pero somos familia somos fratelli somos hermanos somos un gruppo que defiende valores humanos que defiende derechos humanos como tantos otros diputados desta Cámara e que defiende tambien a las lenguas a las lenguas minorizadas a las lenguas en peligro a las lenguas que necesitan protección en este caso como el siciliano o como el caso de la lengua galega catalana vasca corsa la lengua bretona la lengua frisia y todas las lenguas si miramos este mapa este no es un mapa de estados es un mapa de naciones si miramos este otro mapa este es un mapa de lenguas cuantas diferencias no hay solo una lengua por estado o no hay estados que tengan la misma lengua hay incluso lenguas como la lengua danesa en el norte de Alemania que puede ser una lengua que pertenece a varios estados o en el caso de la lengua galega que podemos usar la vía el portugués para hablar tambien con Brasil o con los países africanos portugueses o con Timoreste entonces estamos en una unión europea en la que convivimos muchas lenguas pero hay unas que tienen especial protección y otras no en el caso del galego el galego es reconocido de forma oficial no solo en la normativa de ámbito estatal sino en la normativa de ámbito galego de ámbito autonómico en la normativa de lo que se llama el estatuto de autonomía es reconocido con una ley esa ley es la ley de normalización lingüística que fue aprobada despues de una lucha inmensa porque hay que recordar que la lengua galega igual que el vasco y el catalán fueron prohibidas en la dictadura durante la dictadura franquista las lenguas nuestras lenguas fueron prohibidas por el franquismo con lo cual el reconocimiento de la lengua galega fue tambien un acto de rebeldía fue tambien un acto de democracia fue tambien un acto de reconocimiento de los derechos colectivos de las lenguas como sujeto vivo asi que tambien enhorabuena a ti Ignacio y a todas las personas que luchais por la defensa de la lengua siciliana porque en estos momentos en los que ademais el neofascismo avanza no solo por Italia sino por Portugal Bélgica por el Estado español aquí en esta casa somos eurodiputados y eurodiputadas estamos que defendemos valores democráticos tambien contra ese antifascismo contra ese neofascismo mejor dicho que tambien ataca las lenguas es que tambien ataca las lenguas porque una persona de la extrema derecha aquí diría no, no el siciliano no puede venir el galego no puede ser reconocido entonces tambien es un acto democrático la defensa de la lengua como un derecho colectivo inherente a los pueblos reconocido por la UNESCO reconocido por Naciones Unidas y tambien reconocido por la propia Comisión Europea en el sentido de los programas que tiene lenguas minoritarias o minorizadas en el caso galego en el caso de la lengua galega es reconocida por ley reconocida con una ley propia y esa ley implica que tiene que ser cooficial es cooficial en el ámbito de nuestra de nuestra nación o en el término legislativo comunidad autónoma y es reconocido oficialmente y tiene que ser implementada en la educación en la justicia en la administración y en todos los ámbitos no existe una obligación de conocerla pero si existe un deber de conocerla y para eso está la educación la educación que en estos casos antes era bilingüe pero desde que gobierna el Partido Popular se hizo trilingüe con un decreto llamado decreto del plurilingüismo en el que después de tantos años de lucha por el reconocimiento de la lengua el Partido Popular que actualmente también gobierna en Galicia pues estableció en el año 2009 un decreto llamado decreto de plurilingüismo diciendo que la educación tenía que a ver 33% en galego 33% en español y 33% en inglés y que las lenguas matemáticas por ejemplo que las asignaturas matemáticas o física no se podían dar en galego sino en castellano o sea no podemos pensar más allá y que un el ámbito científico pueda ser también estudiado en una lengua minorizada por eso nosotros desde el BNGA decimos que el galego es una lengua minorizada por su gobierno porque ha ido un poco a la baja pero por suerte es una lengua viva es una lengua que defendemos es una lengua que se usa en la cultura es una lengua que se usa en las artes que se usa en la economía ha perdido bastantes hablantes en la en la gente joven precisamente porque no hay apoyo público ni campañas públicas suficientes y es por eso que también nosotros estamos defendiendo muy abiertamente que tiene que haber más recursos públicos para la normalización completa es cierto que el gobierno actual ha atacado mucho a la lengua ha atacado mucho al galego y por eso ha surgido también un movimiento que se llama así queremos galego queremos galego un movimiento que surgió desde el año 2009 vogliamo galichiano vogliamo siciliano un movimiento que surgió y que sigue vivo porque la lengua no está correctamente implementada ni reconocida ni tampoco aunque tenga instrumentos legales ni tampoco extendida de una manera que tengamos que estar preocupados también por la supervivencia por la supervivencia a pesar de tener todos los ámbitos e instrumentos legales que pueden apoyarla por eso siempre decimos que una lengua tiene que ser viva pero tiene que ser apoyada públicamente tiene que tener recursos y tiene que normalizarse y para una normalización completa es poder estudiar física en galego poder estudiar poder hablar también aquí la lengua galega yo tengo que hablarla a través de la lengua portuguesa por suerte mis compañeros catalanes o vascos no lo pueden hacer porque no hay una lengua parecida la nuestra es una lengua que viene de la misma matriz y que además el galego es la madre del portugués entonces al final tenemos esa suerte pero de forma oficial en las instituciones europeas tampoco está reconocida si es ahora que se ha pedido también ese reconocimiento en el caso ya por ir terminando en el caso de una lengua que tiene instrumentos legales que tiene digamos una normalización aparente pero que le falta todavía una normalización completa hay que continuar trabajando por eso es muy importante también en estos mandatos europeos y en la defensa también en organizaciones como las nuestras como lo que defendemos nosotros continuar hablando en la defensa de las lenguas nosotros pertenecemos a una organización política en el Parlamento Europeo y a nivel europeo que se llama la Alianza Libre Europea que está formado por partidos que venimos de naciones con lenguas propias y que defendemos ese derecho colectivo de los pueblos también a ser defendido en Europa y por eso nos integramos muy bien en este grupo porque ha entendido que existe pues esa autodeterminación lingüística también y ya Ana te puedo hacer una pregunta porque creo que es muy interesante para todos entender cómo funciona prácticamente en Galicia por ejemplo por los niños cuántas horas hacen en gallego cuántas horas hacen en español a la escuela bueno en el caso de la escuela era lo que os decía el decreto de plurilingüismo ahora hace que sea 33% 33% y 33% inglés castellano y galego el tema también está que depende mucho del ámbito familiar pero el problema es que no se cumple actualmente para el gobierno no se cumple ese porcentaje tendría que cumplirse y debería de ser además mucho más amplio y el problema también que estamos denunciando es que en la televisión pública galega no hay suficientes programas de contenido infantil y eso es muy importante y además se está pidiendo una cadena que se llama la iniciativa Xabarín en galego y que ha venido también aquí al Parlamento Europeo a denunciar esta cuestión para la ley de directiva audiovisual para que tengamos contenidos en nuestras lenguas igual que debería de haber contenidos en siciliano entonces el tema es que no se cumple pero existen los instrumentos legales para que se cumpla yo creo que solo se va a cumplir cuando haya un cambio de gobierno lo digo así espero que este año tengamos un cambio de gobierno y entonces nosotros estaremos y defenderemos lo que siempre ha pedido la sociedad galega porque hay muchas personas que la hablan que la saben pero el problema es que también hay una juventud y una infancia que no la usa aunque la sabe y ahí está quizás el gran problema se eu falo galego e falo da miña terra y perdonen los intérpretes pero se eu falo galego e falo da miña terra a que me entenden es una lingua comune es una lingua comune lo importante es que es en a nosa lingua e a nosa referencia no mundo y es además un tesouro vivo un tesouro es un tesouro y por eso muchas gracias mucho ánimo a los defensores y defensoras del siciliano y cuando Ignacio Corrado que también estuvo en la Coruña quiera que vaya allí a defender esta cuestión ahí me tendrás con mucho gusto y vivan los povos vivan los povos y las lenguas se dice grasignas no grasignas grasignas Anna grazie 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 per la tua testimonianza molto importante a cui tengo molto torniamo all'università e allora torniamo all'università e adesso la parola la parola passa alla professoressa Iri De Valenti quindi Università di Catania Glottologia e Linguistica ci ha aiutato molto anche in questo percorso con dei contributi e la parola professoressa grazie buonasera bentrovati a tutti non so se mi sentite forse mi sono alzata in genere non sto mai seduta in aula è una mia abitudine alzarmi mi sento più vicina a chi mi ascolta ho ascoltato tutte le cose che sono state dette qui con grande interesse anche per una ragione perché vedete a volte si studia dentro le aule universitarie e alcuni alcune correnti che attraversano attraversano la società che però non la rappresentano in toto ma ne rappresentano una parte sfuggono non si colgono non si conoscono e molte cose poi le vedi te ne accorgi forse ci vorrebbe molta più informazione soprattutto su quello che noi facciamo dentro le nostre aule oggi il professore ruffino vi ha parlato di 70 anni di storia di un centro studi che onora la Sicilia e al quale io mi onoro di appartenere è un centro di ricerca elevato all'interno del quale abbiamo guardato al nostro patrimonio linguistico e culturale con un amore sconfinato ed è un amore permettimi Ignazio io ti ho portato i libri che sono per te però fisicamente vorrei presentarli questi volumi ne ho portati alcuni li ho portati a Ignazio ma insomma fanno parte di una storia un piccolo percorso perché adesso ve li mostro fisicamente ve li presento quasi che la carta possa diventare come dire si possa personificare dietro ogni volume ci sono persone studiosi che hanno sono andati sul campo hanno provato ad ascoltare le voci del siciliano delle diverse varietà di siciliano perché la capra senza corna in una parte della Sicilia si chiama in un modo in un'altra parte si chiama in un altro modo e non ve lo dico subito forse ve lo dico dopo forse e tutti questi ricercatori hanno fatto dei percorsi mirati proprio a salvare questo patrimonio salvarlo da cosa perché oggi ho sentito molte persone preoccupate preoccupate quasi di una morte annunciata di una morte imminente io non credo che sia così scusatemi ma dalla mia prospettiva io da 25 anni che sono in aula con i miei studenti generazioni di studenti si sono avvicendate nelle mie aule lo posso dire perché ormai l'età è passata quindi c'è uno spessore e questi studenti il siciliano non lo conoscono però si scrivono in lettere fanno i corsi di studio di area umanistica fanno lingue scienze della comunicazione sono studenti proiettati sul mondo che portano con sé il bagaglio che ho sentito molti di voi difendere no non sta morendo però è cambiato e questo cambiamento è insito nelle lingue del mondo in tutte le lingue c'è una cosa che io faccio proprio nelle mie lezioni il mutamento linguistico che è un argomento che i miei studenti temono tanto perché è difficile entrare nelle pieghe delle ragioni per le quali una lingua cambia si modifica sembra quasi diversa da se stessa da una generazione all'altra perché ci sono dei mutamenti fortissimi però vedete il sistema si mantiene perché si mantiene? perché si mantengono i suoni di quel sistema e ce li portiamo dietro l'italiano la lingua italiana che è una lingua meravigliosa che abbiamo finalmente che possediamo finalmente ce ne siamo impadroniti con fatica di questa lingua negli ultimi 150 anni di storia del nostro paese e a questa lingua alla formazione alla costituzione di questa lingua tutti i dialetti tutte le varietà regionali come diceva prima il professore Ruffino come qualche altro credo abbia ricordato prima di me hanno contribuito ma viceversa non possiamo dimenticare che il contatto interlinguistico cioè il fatto che le lingue vivono in bocca ai parlanti e i parlanti si confrontano fra di loro e se vivono in uno stesso territorio parlano anche più lingue non è vero che in Sicilia non c'è il bilinguismo forse ho sentito male io avrò capito male sicuramente io il bilinguismo è un elemento costitutivo del nostro essere siciliani del nostro essere direi italiani perché in ogni regione ecco forse facciamo molta fatica molta fatica a conoscere una lingua straniera se ci devono insegnare l'inglese quanta fatica fanno i nostri figli per imparare l'inglese e quanta ne fanno addirittura se approcciano una seconda lingua ma il bilinguismo naturale quello che tecnicamente a volte chiamiamo di lalia di glossia insomma io non entrerò in merito a termini tecnici non vi voglio tediare con questioni accademiche che pure hanno una loro ricaduta molto importante perché c'è una cosa che non abbiamo detto che non ho sentito lo dobbiamo insegnare lo dobbiamo salvare questo siciliano intanto sta bene è solo un po' cambiato dopodiché prende i prestiti li elabora allora ci dobbiamo fare forse un paio di domande per noi cos'è questo siciliano prima ho sentito implementari approfittari dicidiri ma sono parole siciliane queste stiamo attenti sono prestiti perché tutte le lingue si servono di tutti gli strumenti di cui dispongono i parlanti che se devono esprimere un concetto e per quel concetto nella loro lingua non esiste un'elaborazione vanno a cercare il concetto in una lingua prossima nota e nel caso specifico si cerca nella lingua italiana perché è quella prossima allora io prendo decidiri e me lo faccio decidere lo faccio diventare decidiri implementare lo faccio diventare implementare cosa sto facendo perché vi dico che il siciliano sta più che bene perché la morfologia funziona perfettamente cambio la morfologia delle parole le adatto le integro e diventano parole della lingua siciliana to court senza problemi poi però c'è una cosa stiamo attenti nelle mie aule i miei studenti quando io ho provato a dire ma lo vorreste imparare a scuola tutti mi rispondono e quindi lo vorreste insegnare allora la cosa che serpeggia mi dicono ma professoressa che serve perché noi lo usiamo lo parliamo se dobbiamo parlarlo lo parliamo con chi lo parlano lo parlano con i nonni perché ormai io non lo parlo io sono siciliana sono nata da genitori siciliani sono siciliana da sempre scusate che bevo io sono siciliana ma a me non lo hanno parlato e sapete perché non lo hanno parlato il siciliano perché ogni popolo ogni paese ogni regione nel nostro caso ogni paese la nostra Italia ha una storia ma noi non possiamo dimenticare la storia del nostro paese c'è stato un momento nel quale il dialetto che poi è una lingua ma certo che è una lingua ma chi è che ha detto mai che non è una lingua il dialetto è una lingua ma non stiamo a disquisire di questioni inconsistenti inconsistenti c'è stato un momento nel quale questo dialetto si identificava con la lingua della miseria della povertà della sofferenza di una classe sociale che aveva fatto molta fatica ad affermare se stessa tant'è vero che se n'era dovuta andare in parte aveva dovuto lasciare il sole il mare questa terra così bella che tutti amiamo questa sofferenza si era registrata si è registrata nei geni del patrimonio linguistico isolano e allora ci fu come dice De Mauro un'intera generazione il grande Tullio De Mauro un'intera generazione di madri perché non è una lingua madre è una lingua materna perché tecnicamente se dico lingua madre penso all'inde europeo scusatemi perché da glottologa sono un po' deformata è la lingua materna quella che viene parlata dalla mamma se la mamma parla in una determinata lingua i propri figli quei bambini avranno quell'imprinting impareranno quella lingua per questo si chiama lingua materna c'è una ragione poi magari non sarà la mamma a crescere i bambini ormai lo sappiamo ci sarà una persona viene detta persona di cura ma comunque è la lingua è il primo suono i primi suoni che il bambino sente sono quelli che il bambino registra anche quando la lingua che ti viene parlata non è il siciliano in Sicilia i suoni che ci vengono trasmessi sono quelli del siciliano perché quando poi parliamo in italiano allora a me non hanno insegnato a parlare in italiano ma certo io non parlo un italiano standard perché sono nata in Sicilia i miei suoni la mia fonologia comunque al di là del fatto che certo avendo fatto un percorso di formazione di un certo tipo molte cose le avrò anche limate perdute non lo so però nella mia fonologia si è impressa la mia appartenenza perché l'appartenenza è fonologica prima di tutto che è il primo elemento nessuno non ce ne accorgiamo Ignazio parla un italiano che ha la marca dell'italiano occidentale della Sicilia io invece sono di area centrale io non dico la luce per dire accendi la luce dico la luce perché nella Sicilia centrale non abbiamo bisogno di fare la luce a Catania sono arrivata la luce la cuscina sociale allora lì allora ognuno ha un imprinting fonologico la morfologia non cambia certo mi hanno parlato in italiano e allora cosa facciamo con questi siciliani che non sanno parlare in dialetto li buttiamo io che faccio mi vado a buttare no giusto io parlo in italiano allora e finisco vado a finire lo vogliamo trasmettere lo vogliamo salvare il professore Ruffino vi ha ricordato alcune cose lui non ha detto tutto c'è un lavoro immenso andate sul sito del centro studi giusto per farvi un'idea di quello che abbiamo fatto qui io ho alcune cose abbiamo difeso il patrimonio galloitalico per esempio dell'isola noi abbiamo le varietà galloitaliche che sono un diciamo gruppi di parlanti che parlano italiano settentrionale abbiamo fatto dei progetti ci sono i vocabolari ci sono delle opere che raccolgono tutte le produzioni la lingua abbiamo cercato di salvarla il gallo romanzo quando sono venuti i normanni il professore Ruffino lo menzionava ecco un volume questo è il volume che diceva il professore di cui è un vice no io questo non lo voglio dire allora il problema è che per insegnare poi dice questo patrimonio allora ma me lo siete chiesti una cosa veramente Ignazio questa me la devi fare dire chi lo insegna chi deve entrare in un'aula e dire ok oggi facciamo il siciliano perché guardate nell'università la dialettologia sta morendo non c'è quasi più nella mia università per esempio dialettologia non ce n'è a proposito scusate la parentesi ma la tesi non è stata discussa a Catania questa cosa è sospesa non è stata discussa è un'idea ma comunque non è stata sostenuta ancora però voglio dire chi li forma questi docenti di lingue guardate che neanche l'italiano e i nostri docenti hanno strumenti per insegnare perché nell'accademia italiana nell'università italiana lo dico da linguista le materie linguistiche perché se tu devi fare un lavoro devi avere gli strumenti devi avere la competenza per fare quel lavoro vuoi insegnare una lingua devi avere gli strumenti no? allora per avere gli strumenti gli strumenti li dà il linguista scusatemi sono di parte ma gli strumenti li dà il linguista il docente che insegna letteratura italiana insegna un aspetto elevatissimo dell'elaborazione linguistica e culturale del nostro paese ma noi diamo strumenti ti insegniamo come si usa un vocabolario ti facciamo vedere come si fa la riflessione grammaticale in classe ora ho finito all'università scusatemi però lo devo dire no scusate se no poi non ci siamo all'università Marina Marina mi aiuta all'università all'università i docenti di lettere che sono quelli che poi sono chiamati a fare questo lavoro poi devono hanno pochi strumenti allora la proposta cerchiamo di favorire la presenza di cattedre all'interno del sistema universitario ampliamo la dialettologia la possibilità che i futuri docenti conoscano gli strumenti diffondiamo l'informazione aiutateci a divulgare quello che facciamo perché noi facciamo tantissimo ma non lo sa nessuno Marina dirà delle cose nessuno oggi mi hanno detto ah il vocabolario noi abbiamo abbiamo un vocabolario immenso e non lo sanno Ignazio aiutateci a far questo divulgare e promuovere insegnamenti all'università grazie Iride più che altro per il la passione la passione che trasmetti la passione che hai trasmesso al tuo intervento è sicuramente indice di un lavoro e porti avanti di una vita e so che sarei rimasto pure io volentieri ad ascoltarti un'altra mezz'ora ma dobbiamo garantire a tutti di poter intervenire io peraltro hai tirato fuori un argomento di cui non si era parlato tanto che è come viene utilizzato l'italiano ed è vero che l'italiano non esiste l'italiano standard chi è che parla l'italiano standard è chiaro che l'italiano ha tutte sfaccettature diverse l'italiano standard lo parlano soltanto quelli che fanno i traduttori dei film americani e che dicono dannazione chi è che dice dannazione ci vediamo al prossimo isolato chi è che dice isolato in italiano in nessuna regione si dice in nessuna sfaccettatura quindi è chiaro che è così ora andiamo su un'altra regione che è particolare questa storia qua perché a me una volta Diego mi fa ma c'è un professore che io conosco che insegna siciliano in Tunisia che poi la cosa della Tunisia per noi siciliani è sempre un argomento un po' senso perché se tu nomini la Tunisia qui comunque è sempre considerata vista come un posto lontano diverso distante perché appartenente ad un altro continente ma in realtà stiamo parlando di qualche decina di chilometri da se prendiamo le isole minori quanto saranno da Pantelleria quindi saranno un centinaio e qualcosa dalle coste siciliane e te lo dico sai perché perché io ho avuto questo aneddoto un po' strano noi siciliani siamo collegati male con gli aerei e soprattutto siamo collegati male con Strasburgo quindi c'è stato un periodo in cui io per andare il lunedì a Strasburgo quando avevamo sessione da Palermo facevo scalo a Tunisi e quindi alla volta tornavo arrivavo a Strasburgo e dicevo io da dove vieni da Amsterdam da Parigi scalo a Milano a Roma io faccio scalo a Tunisi e mi guardavano molti colleghi cioè tu te ne vai in Africa per arrivare te ne vai in Africa e sì perché Tunisi era l'unico posto diciamo che mi garantiva di arrivare con un solo scalo e peraltro era un viaggio indietro nel tempo perché in Tunisia c'è un'ora indietro di fuso orario ci sono 40 minuti di volo se non mi ricordo male da Palermo e quindi partivo alle 10 sì partivo alle 10 arrivavo alle 9 e mezza e quindi in quella mezz'ora di loop temporale poteva succedere qualsiasi cosa do la parola al professore Campisi che insegna siciliano in Tunisia che è una cosa molto interessante che ci racconta professore ecco grazie mille dicevo grazie per l'invito in realtà è molto curioso questo questo fatto del dove andavi a Strasburgo ecco perché chi è andato a Tunisi e prende l'aereo per Palermo e Palermo è in realtà tra i voli nazionali cioè non parti dai voli internazionali quindi è proprio sotto cioè dove al pian terreno dove si parte per Toser Gerba eccetera eccetera e quindi anche Palermo ecco fa quindi è anche questo un po' curioso comunque grazie allora questo incontro credo che sia veramente molto molto interessante interessante perché mi ha fatto anche forse notare e ci ha fatto forse notare che esiste una differenza forse tra i siciliani di Sicilia e i siciliani che vivono all'estero allora io in due parole purtroppo abbiamo poi Ignazio bloccami quando io inizio a parlare mi dimentico un po' tutto allora in realtà io discendo da una famiglia migrante siciliana di Trapani andata a Tunisi nel 1830 poi la maggior parte dei Caruso e dei Campisi sono rientrati in in Italia in Francia negli Stati Uniti un po' ovunque e io 25 anni fa decisi invece di rientrare dico proprio rientrare ritornare in Tunisia anche se non era in realtà un ritorno e quindi è proprio in Tunisia questa Tunisia che io poi vissi con tanto attraverso la mia infanzia quindi con i racconti della nonna che mi parlava in siciliano e nonna mi diceva sempre Alfonso l'italiano ovviamente devi conoscere l'italiano ma devi conoscere anche il siciliano e quindi tutti i racconti di nonna di Giuffa mi ricordo erano in siciliano i detti in siciliano e così via allora io dico io credo che ci sia veramente una come dire una differenza come dicevo prima tra noi all'estero tra noi siciliani all'estero come per esempio il professore Cipolla o io o altri che viviamo all'estero perché per noi questo siciliano è una rivendicazione ma soprattutto identitaria allora noi abbiamo parliamo di lingua e di cultura siciliana io la insegno insegno filologia e romanza mi occupo di emigrazione siciliana in Tunisia tra il XIX e il XX secolo e sette anni fa otto anni fa proposi al ministero dell'università e della ricerca scientifica tunisino di aprire un corso di lingua e cultura siciliana allora la cattedra è esattamente cattedra per il dialogo di cultura e civiltà allora è una cattedra in realtà che ha lo scopo di come dire avvicinare le due rive la riva nord e la riva sud del Mediterraneo che come diceva giustamente l'onorevole Corrao siamo a pochissimi chilometri 57 da Pantelleria da Capobon e a 130 chilometri da Mazzara del Vallo quindi vicini vicini di casa e allora iniziò questa idea di insegnare il siciliano però giustamente mi diceva ma il siciliano in Tunisia per quale motivo si spiega forse il siciliano in America in Venezuela in Canada eccetera ma forse pochi sanno che la Tunisia ha avuto una grande emigrazione siciliana più di 200.000 persone partirono dichiarate diciamo arrivarono in Tunisia ma tantissime altre arrivarono in barca con piccole con piccole imbarcazioni proprio con lo stesso modus operandi che vediamo oggi e allora il prego forse ancora pochissimi sanno che in Tunisia fu pubblicato il primo giornale in lingua siciliana in Tunisia vi parlo quindi non il primo giornale in assoluto Simpaticuni il Simpaticuni fu questo giornale come vedete stampato in Tunisia il primo numero vedete che uscì nel 1911 questo perché vi dico questo perché forse vi farà capire anche perché il siciliano oggi in Tunisia perché insegniamo anche il siciliano in Tunisia che è seguitissimo tra l'altro perché il 99% dico 99 studenti su 100 frequenta questo corso che è un corso una materia complementare quindi vedete questo Simpaticuni che nasce che ve lo leggo come potete vedere il 18 giugno 1911 come giornale dialettale umoristico satirico letterario con la sede a Rue Bebswika numero 31 e già dice i primi numeri comprendono quattro pagine diffusi in italiano e siciliano e si tratta prevalentemente di cronache poesie racconti testi teatrali in siciliano invece gli articoli di informazione politica economia società erano in italiano andiamo avanti Alessi allora Simpaticuni che è un giornale che oggi è stato ripreso che è iniziato ad essere studiato nuovamente venne considerato come portavoce delle numerose Petite Sicile perché in Tunisia abbiamo avuto diverse Petite Sicile tra cui quella della Goulette quella di Tunisi ma anche Capaci Grande e Capaci Piccolo perché molti migranti provenivano dalla città di Capaci questo giornale pubblicato a Tunisi dall'11 al 33 perché ci furono in Tunisia circa 130 giornali in lingua italiana e il primo giornale scritto tra l'altro pubblicato scusate stampato in Tunisia fu in lingua italiana il giornale De Tunis e de Cartage di Tunisi e Cartagine quindi vedete che questo giornale Simpaticune è un intreccio di lingue perché anche in Tunisia abbiamo una variante siciliana che è una variante un po' diversa dal siciliano di Sicilia perché è molto melangé al francese all'arabo tunisino ma è appunto il siciliano di Tunisia quindi questo sicolo tunisino parlata dalla comunità siciliana di Tunisia dove abbiamo appunto delle crone che firmate da chi fa tasse eccetera eccetera vado veloce comunque quello che c'era cosa era scritto su Simpaticune c'era scritto i manoscritte non si restituiscono manco allignate questa era proprio la prima frase che compariva sulla prima pagina di Simpaticune ecco quindi vi dicevo questa cattedra invece la cattedra ritorno alla cattedra Sicilia Vincenzo Consolo per il dialogo di cultura e civiltà che è stata creata nel 2016 intestata a Vincenzo Consolo che conobi e che incontrai diverse volte e Vincenzo diceva sempre Tunisi è la mia seconda Palermo e in realtà veniva spessissimo a Tunisi quindi la cattedra la voglio intestare appunto a Vincenzo Consolo continuè mamma la cattedra cosa si insegna in questa cattedra allora la cattedra Vincenzo Consolo come vedete ha questa cattedra in lingua siciliana 2015-2016 è intestata allo scrittore e lo scopo della cattedra è quello di valorizzare il dialogo interculturale tra le due sponde del Mediterraneo e più in particolare Sicilia e Tunisia la Sicilia in realtà fa un po' da trait d'union se vogliamo tra i due continenti o i due paesi il corso prevede l'insegnamento del siciliano la storia delle migrazioni tra XIX e XX secolo e gli elementi elementi di antropologia e cultura siciliana e credo che se può no allora no quindi sì terminiamo con questo come siamo a tempo abbiamo due minuti per vedere un video o no? no due minuti ok allora vi faccio vedere soltanto proprio due minuti del trailer del film che ho prodotto che è siciliani d'Africa Tunisia terra promessa che è proprio incentrato sulla lingua dei siciliani di Tunisia e qui vi faccio vedere soltanto due minuti proprio all'inizio del corso di lingua siciliana ci sono sei sette studentesse che parlano in siciliano solo dopo cinque corsi di cinque corsi di siciliano prego Tunisia non è stata mai oggetto di studio è stata sempre una storia di cui poco si è parlata e soprattutto è stata forse mal raccontata quattro anni fa è nata la cattedra Sicilia cattedra Sicilia Vincenzo Consolo per il dialogo di culture e di civiltà che è la prima cattedra al mondo di lingua e cultura siciliana cattedra universitaria che ha sede presso la facoltà di lettere dell'università della Mannuba dove appunto i studenti in italianistica in master in italianistica studiano anche la lingua e la cultura siciliana diremo cui vi piace può presentarsi in siciliano io ho scelto lo siciliano perché a mia piace l'accento sia l'accento e sia la cultura siciliana la mia famiglia è composta di cinque persone io miei matri miei patri e le mie miei frasi ho scelto di studiare la lingua siciliana perché secondo me uno studente che studia la lingua italiana havi sapere almeno una orologia di dialetti la mia famiglia è composta da mie pace mie macie mie apto o mie cane sono la figlia unica non ho né frati né solo a mia mi piace assai parlare siciliano e come io ho tanti amici siciliani voglio imparare la sua lina ap pagare co oggi ho scelto di impaggiare la lina siciliana grazie mille intanto ti faccio i complimenti perché se mi sei riuscito a rimanere nei tempi e non era scontato grazie professore grazie per questa per questa testimonianza che arricchisce che arricchisce questo evento di un'altra di un'altra sfaccettatura che spesso non si immagina perché per esempio che ci siano siciliani che parlano in siciliano in Australia negli Stati Uniti d'America in Sud è abbastanza risaputo ma che si faccia questo in Tunisia che è tanto vicina ma tanto lontana culturalmente probabilmente per la questione e poi peraltro siamo stati anche per un bel po' di anni parte della stessa entità governativa con quella che un tempo era lì Fricchiano da cui arrivarono al confine tra Campobello di Mazzara e Mazzara Granitola che è dove sono sbarcati quando inizia il periodo arabo soltanto una cosa così un po' divertente però sui pupi siciliani perché c'è anche i siciliani hanno lasciato i pupi siciliani in Tunisia e c'è ancora una frase ripetuta dai vecchi tunisini quando c'erano queste le marionette come chiamavano le teatro de marionette e quindi tra musulmani e cristiani c'erano questi due pupi che si scontravano e dicevano ammazzamo non so du mila soldati saraceni quello che è e poi dal pubblico sempre ancora i tunisini dicevano sempre Sunnu Cioppi Don Nicolao scalamo scalamo ed era ogni volta quindi c'era in questo teatro de marionette ah un erano 1500 Don Nicolao Sunna Sai scalamo scalamo e fin quando si arrivava magari a 50 da duemila bello bello e comunque quelle ragazze che seguono il corso e parlano in siciliano o parlano in siciliano meglio in mia per dire ritorniamo all'aspetto scientifico scientifico perché era importante noi abbiamo fatto ieri sera tanto aspetto artistico che ci ha emozionato e torneremo a fare a fare parlare il siciliano con l'arte ma l'aspetto scientifico è fondamentale per renderlo solido quindi io ritorno all'università ci spostiamo dall'università di Catania a quella di Palermo sempre sul Dipartimento di Scienze Umanistiche e la parola va alla professoressa Marina Castiglione grazie mi sentite allora io innanzitutto dirò che sono emozionata e non me l'aspettavo da me stessa perché sono abituata a parlare in pubblico con moltissimi studenti però la platea di oggi è una platea diversa a cui io non sono abituata e questo è anche un momento credo in cui molti di noi per motivi diversi hanno posto tante aspettative io ho ascoltato con estremo interesse e attenzione ciò che è stato detto nei minuti precedenti nelle ore precedenti voglio dare soltanto alcuni elementi in più insomma complementari rispetto a ciò che è stato detto dal professore Ruffino ora dal collega Campisi dal professore Cipolla e dalla mia collega Iride Valenti negli anni settanta ci fu un dibattito molto polemico molto duro rispetto al rapporto tra lingua e dialetto e in quel dibattito si preconizzò la morte dei dialetti venne persino data una possibile data di non ritorno esattamente come succede oggi con le politiche ambientali no? si pensava che già nel 2030 i dialetti sarebbero morti tutti quanti e invece noi siamo oggi qui ed è il 2023 quasi 2024 e parliamo di rivitalizzazione dei dialetti quindi qualcosa deve essere successo in questo lungo periodo e questo qualcosa è che comunque le cattedre di dialettologia ci sono state e se a scuola si continua si continuava a fare terrorismo dialettofobico nelle università invece già negli anni 70 è partita la prima cattedra di dialettologia all'università di Catania e da lì poi si sono mossi tutta una serie di studi e anche di posso dire quasi politiche linguistiche militanti noi lavoriamo moltissimo nelle nostre università con le autobiografie linguistiche cioè cerchiamo di capire cosa succede all'interno delle famiglie dei nostri studenti e quale sia il repertorio che viene parlato da queste famiglie quale lingua venga passata trasmessa ai figli e negli anni sempre con maggiore costanza ci siamo accorti che se le famiglie continuavano a fare resistenza se la scuola continuava a sottolineare con la matita blu ciò che era dialettale contravvenendo all'articolo 3 della Costituzione che è il rispetto di tutti in qualunque lingua si parli e quindi venendo meno ad un obbligo che è quello di spiegare che quello sì rispetto all'italiano un errore ma in realtà è uno scarto che si manifesta perché accanto all'italiano ci può essere un'altra lingua prima era il siciliano oggi può essere l'arabo può essere il cinese o qualunque altra lingua e quindi cosa facciamo se non siamo puri buttiamo a mare i bambini con la nostra matita blu e quindi se oggi stiamo parlando di dialetto e di rivitalizzazione del dialetto è perché c'è stato un grandissimo lavoro nel cercare di formare intere generazioni di docenti prima di studenti e poi di docenti spiegando che dire dialetto non è una parolaccia dialetto non è lingua di serie B i dialetti sono una varietà linguistica neolatina con una sua storia e le storie sono diverse come ci ha spiegato anche la collega della Galizia perché una cosa è stata la vicenda della Francia la Francia è diventata nazione già all'epoca di Carlo Magno e oggi non esistono i dialetti in Francia esistono dei dialetti del parigino perché il parigino fagocitò tutte quante le parlate locali che oggi sono poco più che accenti la vicenda che ci ha raccontato la collega quella della penisola iberica è un'altra ancora perché loro sono diventati nazione nel 1492 e quindi c'era già una stabilizzazione di varietà linguistiche con una loro letteratura e anche con delle scritture formali perché erano dei regni diversi e oggi rivendicano anche un'autonomia politica a partire da quello la storia dell'Italia è una storia diversa ed è una storia in cui soltanto di recentissimo siamo ci riconosciamo come italiani e io non rinuncerei mai mai alla mia italianità come non rinuncerei mai alla mia sicilianità e non rinuncerei mai alla mia europeità perché io sono tutte queste cose e lo sono in virtù di processi storici e storico-culturali che hanno visto impegnate intere generazioni in battaglie terribili di cui non dobbiamo mai perdere traccia come non dobbiamo perdere traccia di tutte queste varietà e dirò anche un'altra cosa perché mi ci ha fatto pensare l'avevo anche pensato ascoltando alcuni dei vostri interventi io non vorrei neanche la standardizzazione del siciliano perché poi la standardizzazione del toscano del fiorentino a cosa ha portato ad una lingua che si è sganciata completamente dai referenti reali si è molto burocratizzata oggi utilizziamo un italiano che non è l'italiano di Manzoni per quanto Manzoni avesse diciamo collaborato alla prima legge di riforma anzi di riforma di istituzione di una scuola nazionale parliamo una lingua che Italo Calvino di cui ricorro nel centenario considerava una antilingua perché non aveva più il rapporto con le cose l'aveva sganciato invece i dialetti ce l'hanno tutto ce l'hanno tutto il rapporto con le cose e io preferisco mille volte quel dialetto che mi parla ancora delle cose che si esprime ancora con una testualità che gli è propria sinceramente non ho molta invidia dell'italiano burocratico e non vorrei mai un siciliano burocratico io voglio invece il nostro siciliano quello che ha quella ricchezza di sfumature di varietà esattamente come le processioni di San Giuseppe collega Buttitta possiamo mai avere un'unica processione di San Giuseppe un'unica processione di San Calogero non possiamo un'unica caponata un'unico modo di fare la pasta al forno noi siamo tutto questo puzzle ed è proprio in questa ricchezza che io invece farei le mie rivendicazioni perché il territorio noi lavoriamo moltissimo quello che portiamo nelle università non è soltanto lessico non sono soltanto libri ma sono le parole dei nostri parlanti e i nostri parlanti noi li incontriamo ogni giorno sui territori e chiediamo loro di parlarci dei nomi di luogo dei nomi delle persone dei cognomi di parlarci degli strumenti antichi delle filastrocche delle ninnananne di come si insegnavano le parti del corpo di come si parlava nei campi tutti quanti i saperi botanici tutte quante le classificazioni fitonimiche io vengo dal centro della Sicilia qui vicino c'è Marsinelle e moltissimi i miei informatori mi hanno parlato di come si sono convertiti da Carusi di Perrera di Surfaro a invece lavoratori della Mina di Carbone e mi hanno raccontato tutto questo in una lingua che vibrava di passioni di sofferenze di cose di oggetti ma anche di tassonomie geologiche cioè parlava davvero di tante cose diverse e chiudo dicendo cosa il dialetto per tanti anni è stato per secoli forse un dialetto per difetto avevamo soltanto quello e non potevamo parlare nessun'altra lingua perché non c'era nessun'altra lingua era un dialetto per difetto di minoranza e non potevamo essere altro e ce lo ricorda bene Leonardo Sciascia come maestro e Danilo Dolci ce lo ricorda Don Lorenzo Milani quel dialetto non è da rimpiangere non è da rimpiangere ci teneva fuori da tutto poi c'è stato anche un dialetto e c'è tuttora un dialetto per dispetto tu non me lo fai parlare allora io lo parlo a tutti i costi poi c'è un dialetto per diletto che oggi sta facendo forse molto più di noi professori universitari il dialetto per diletto quello del linguaggio del comico della musica dei grandi scrittori è quello che ci ha sdoganati ci ha sdoganati e non siamo più quelli che parlano la lingua della mafia siamo quelli della simpatia Fiorello oggi è patrimonio secondo me scusi dell'UNESCO dobbiamo fare Fiorello patrimonio Mario non saprei e allora chiudo dicendo l'ultima cosa dopo il dialetto per dispetto il dialetto per difetto e il dialetto per diletto io aggiungerei che se vogliamo e nessuno ce lo vieta perché c'è l'articolo della Costituzione che ce lo garantisce possiamo avere il dialetto per idioletto cioè come lingua personale e nessuno ci vieta di trasmetterlo ai figli di fare le battute nelle scuole oppure di fare delle intere conversazioni chiacchierate con chiunque vogliamo possiamo farlo di scrivere testi di letteratura possiamo farlo in qualunque momento però per cortesia il dialetto vero non un antidialetto come esiste ancora oggi l'antilingua italiana grazie Marina quindi raccogliamo la proposta di suggerire all'UNESCO salvo la rosa come patrimonio dell'umanità salvo la rosa allora qui hai fatto hai fatto lo utilizzo una cosa che hai detto nel tuo intervento Maria Professoressa Castiglione per introdurre il prossimo che secondo me è veramente molto molto interessante si collega a tante cose che sono state dette allora il prossimo intervento sarà di una collega europarlamentare Maria Arena che è un nome assolutamente siciliano che vi può sembrare assolutamente familiare ma Maria è nata cresciuta vissuta in Belgio in Belgio è stato ministro di due diversi governi se non ricordo male governo Ghiferosta del governo di Forrompui è stata presidente della comunità francofona del Belgio se non ricordo europarlamentare ha una larghissima esperienza politica ed è di origine totalmente siciliana più di me allora con Maria abbiamo con Maria abbiamo parlato di Sicilia tante volte lei è oggi deputata del gruppo dei socialisti e io sono molto contento che sei qui con noi Maria e ci racconti qualcosa del tuo essere siciliana o di origine siciliana in Belgio perché ieri guarda se ieri fossi stata al teatro Lumen Mario Incudine che è un bravissimo musicista siciliano a un certo punto ha interpretato una poesia di Ignazio Buttitta che si chiama Il treno di Lusule che racconta esattamente con un impeto con una forza comunicativa incredibile quel viaggio dei siciliani che andavano in Belgio che per te è qualcosa di familiare a te la parola Maria grazie mille Ignazio parlo un po' italiano parlo un po' siciliano parlo francese è sempre difficile parlare italiano perché le genitori eravano siciliane tutte e due quelle siciliane abbiamo parlato di questi siciliani che sono andati via dopo la seconda guerra mondiale sono arrivati in Belgio per le minerie e quindi eravano siciliane un po' analfabiti e quello è il dialetto siciliano che abbiamo avuto a casa e il fatto che queste persone eravano analfabiti così si dice sì il loro pensiero era per essere totalmente integrati in Belgio non possiamo parlare in siciliano in italiano a casa l'unica cosa che dobbiamo fare è parlare francese era facile con il padre perché lui è arrivato in Belgio a 11 anni quindi ha fatto un po' la scuola in francese e quindi lui parlava un po' francese la mamma che è arrivata a 20 anni e che è venuta di Riesi non so se tutti sanno dove Riesi quello paese scusatemi ma penso che Riesi è il più brutto paese di Sicilia ma questa è la mia opinione è difficile il paese di Riesi però il papà veniva lui di provincia di Enne Cala Cala Cibetta bello bello Cala Cibetta Maria ieri è stata citata più volte proprio da Mario in Cibetta è bellissima è veramente bellissima e quindi la mamma che è arrivata a 20 anni che non aveva lei ha vissuto in Sicilia e fino a 20 anni non aveva mai visto il mare vivere vivere su un'isola e non avere mai visto il mare la prima volta era 20 anni quando ha preso il treno per venire in Belgio quindi era per dire quindi quando era arrivata in Belgio parlava siciliano di Riesi e quindi mi chiamava per esempio Maried mi chiamo Maria o Mare o Maried Maried quando era un po' incazzata e sono arrivata in Belgio in un piccolo villaggio che si chiama Avré che è un villaggio dei minatori e dentro questo villaggio c'era un altro dialetto era il dialetto francese le wallon e lei ha fatto con questa convivenza questi due dialetti ha fatto il suo dialetto e non parlava più siciliano non parlava l'italiano perché non è andata a scuola parlava un dialetto un po' così per dire sì diceva why why che non è francese e why non so è un dialetto di là why sì quando diceva va alla puttilla accattami il jambon io sapevo cosa voleva dire ma è lessico familiare sì accattami il jambon il prosciutto jambon ma il jambon il jambon e quello è il dialetto che abbiamo vissuto qua in Belgio però tutte le anni andavamo in Italia avevo una parte della famiglia che era a Livorno che si sono rimasti non sono andati fino in Belgio quelle eravano le più intelligenti perché venire qua in Belgio ho sempre detto alla mia mamma e al mio papà ma perché il Belgio perché sarebbe meglio a Livorno non so dove in Italia però il Belgio eravamo in Italia a Livorno era difficile per noi parlare perché sempre veniva il siciliano accattò il jambon quindi il zio a Livorno guardava e diceva ma voi siete gli africani terroni quelli la faccia scura così si dice e io sono la faccia scura perché sono mora sempre vestuta di nero e quindi veramente la faccia scura quindi a Livorno eravamo le facce scure terroni a Riesi eravamo i frustieri quelli del dialetto di Riesi frustieri 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 quindi non era veramente positivo questo linguaggio che ricevamo della Sicilia e dopo quando eravamo in Belgio io quando dicevo io sono belga dicevano sì tu sei bunti cos'è il bunti infatti è questa caramella che è nera fuori e bianca dentro si eravamo il bunti nera fuori e bianca dentro perché è vero la cultura belga era la cultura io andavo a scuola in francese con tutti i belgi che eravano lì e quindi per me era un po' difficile fare questa non so fusion questa fusion è stato necessario necessario dimenticare tutta la parte italiana italiana per un momento dicendo no quella non esiste e quindi mi sono veramente concentrata sulla parte belga dicendo quella è una questione di sopravvivenza era veramente una scelta di sopravvivenza perché se no c'è una discriminazione intensa sulle persone immigrati che non fanno questa scelta è necessario fare una scelta e ho fatto la scelta dicendo vado all'università devo parlare francese tedesco inglese spagnolo tranne l'italiano e quella è stata la scelta non so se è stata una scelta buona o no però ho dovuto farla e dopo quando ho fatto questa scelta sono andata all'università mi sono sentita un po' stabile sono tornata alla cultura italiana siciliana questo dialetto bellissimo ho ascoltato delle canzoni rosa balistreri che avete passato è veramente magnifica perché quando io sento questa rosa balistreri che scrive alla sua mamma io penso alla mia la mia mamma che non sapeva scrivere in italiano però scriveva scriveva in siciliano alla sua mamma com'era il tempo quando dice che chiove sempre è vero che chiove sempre è vero e quindi quella storia quello siciliano questo dialetto questa cultura e quando mi chiedono in Belgio ma tu da dove vieni ma quali sono le tue origini io non dico mai italiana mai la prima cosa che viene dico siciliana E dopo mi guardano e dicono, ah sì, siciliano, però la Sicilia è in Italia, sì sì, la Sicilia è in Italia, l'Italia è in Europa e siamo tutti europei e quindi sono totalmente d'accordo su questo. Per me questa storia è importante. Quello che dobbiamo fare, penso, è dare la possibilità di fare questo marcio indietro, andare, tornare, dimenticare e ritornare e trovare i posti per farlo. Perché io adesso sono un po' orfana, così si dice, orfana, perché non ho più i miei genitori e quindi dove posso andare per continuare questo percorso? Questo percorso della cultura, perché quando si dimentica la cultura, si dice sempre, quando non ci sono le radici, non puoi avere una pianta che cresce e che fa le frutte, non si può. Ho due figlie e mi sembra importante darle questa cultura e fare questo heritage, questo percorso per me, ma anche per loro, perché devono sapere dove vengono e sapere la cultura che è molto ricca e possono trasmetterla anche loro. E quindi quella è questa storia, creare questi posti dove possiamo dimenticare, rispettare quelle che dimenticano, però rispettare anche quelle che vogliono tornare a questa cultura. Grazie. Grazie mille Maria, tu è una sabbia degli italiani in Belgio, si parla spesso, sono sicuro che ti può aiutare, salvo la rosa, a ricollegarti con la cultura siciliana. Lui è il grande connettore dei siciliani del mondo. Che poi peraltro è un esempio di tanti che ce ne sono, di persone siciliane o di origine siciliane che hanno fatto grandi cose, che hanno avuto grandi successi in altri posti del mondo. Devo dire, a un momento è stata difficile perché si ricorda sempre le siciliane che hanno fatto grandi cose, però penso che tutte le siciliane che sono uscite di Sicilia, che eravano analfabete, che sono andate in mineria e che hanno perso la vita, sono quelli che sono grandi. E purtroppo qua in Belgio, come a Marcinelle, ce ne sono stati diversi i nostri connazionali, i corregionali che ci hanno rimesso la vita. Allora, io andrei a chiudere questo momento istituzionale dove ci sono state tante voci dal Parlamento europeo, dall'UNESCO, dalle università in Sicilia, fuori dalla Sicilia. Chiudendo con Aurelio Latorre, che ho conosciuto in un convegno a Messina, organizzato da Davide Liotta, che appunto lavora presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi qua l'istituzione di riferimento è quella nazionale italiana, ma che è molto appassionato da tanto tempo del tema del siciliano, ci ha aiutato molto anche nel percorso di organizzazione di questo evento, di impostazione e di risultato e obiettivo finale. Infatti a te, Aurelio, ti do il compito di fare un po' la sommatoria di quello che ci siamo detti, perché tra un po' ritorniamo al lato artistico. Grazie Ignazio, grazie a tutti voi. Oltre a lavorare dal 2001 alla Presidenza del Consiglio, ho avuto la possibilità di lavorare circa dieci anni all'estero, in diversi paesi dell'Europa dell'Est, dove il compito era impegnativo quanto quello che abbiamo oggi. Il compito era, come responsabile dei diversi progetti, fare in modo che le cose cambiassero in determinati settori, riforma della giustizia, riforma della pubblica amministrazione, economia di mercato, cambiassero nel breve tempo di un anno o due anni che quello era il tempo del progetto e quindi quello era l'ingrato compito che dovevo svolgere. I miei amici mi hanno spesso detto, ma tu fai tutte queste cose per i governi italiani o esteri, ma per la tua terra? E allora questo ha fatto nascere in me il bisogno di dedicarmi con passione ai temi di cui discutiamo oggi. Questa diciamo è un'argomentazione razionale, ma ci sono anche due altri buonissimi motivi che illustrerei nella prossima slide, la prossima. I due buonissimi motivi sono Emma e Adriano, che sono i miei figli, e che sono nati a Roma, ma hanno anche il sangue siciliano per ovvi motivi. E le tre bandierine che ci sono sotto le loro fotografie rappresentano le tre identità che sono di questi due bambini come di tante migliaia di altri bambini. Le tre identità, quella siciliana, quella italiana, quella europea. E questo io volevo sottolinearlo perché si dice, come sapete, c'è un detto che dice che conoscere una lingua in più è come avere un'anima in più. E io ci credo fortemente. Io sono stato esposto nella mia vita a una ventina di lingue, ovviamente non le parlo tutte, forse un terzo, però ognuna di esse mi ha arricchito fortemente di qualcosa, a maggior ragione quelle con le quali posso esprimere i miei sentimenti o le mie idee. Quindi io credo molto a questo proverbio e credo che questo debba aiutarci nel rapporto con le nuove generazioni. Perché la lingua non è uno strumento di comunicazione, soltanto, perché altrimenti anche l'italiano potremmo abolire. Usiamo l'inglese in tutto il mondo, lingua unica, moneta unica e siamo tutti più contenti. No, non è solo uno strumento di comunicazione, è un patrimonio che ci viene dai nostri avi ed è quindi una parte della nostra identità, una parte della nostra anima. E questo è il motivo per cui io, con i miei figli, ogni sera quasi, da quando sono loro in grado di capire, gli leggo delle storie, delle storie che sono partite dalla mitologia greca, dal periodo greco della storia siciliana, le storie di Giuffa e così via. E questo ha portato in loro, io credo, un arricchimento e io sono convinto che se questi due bambini avessero partecipato a quel sondaggio citato nell'interessantissimo intervento del professor Ruffino, alla domanda che cos'è per voi il dialetto, io penso che entrambi questi bambini avrebbero risposto, il siciliano è una lingua dorata o d'oro. Perché questo è quello che loro hanno assimilato, probabilmente dall'ambito familiare, e questo mi porta a sottolineare una cosa, che io credo che il compito nostro come genitori e il compito degli educatori nelle scuole, come nelle università, come in tutte le altre occasioni, incluse quelle associative volontaristiche, è un binomio fondamentale che può cambiare la direzione delle cose. Perché dico cambiare la direzione delle cose? Perché ci sono dei segnali che non sono buoni, andiamo alla prossima slide, io riassumerò velocemente alcune cose per ripassarle tra di noi. La Sicilia è l'unica regione a statuto speciale la cui lingua non è riconosciuta nella legge del 99, che però riconosce il sardo e il friulano, e sardo e friulano e siciliano io non vedo questa differenza così netta tale da metterle in categorie così diverse. Nella prossima slide abbiamo, se ne è già parlato, una legge regionale che avrebbe voluto inserire il patrimonio storico, culturale e linguistico nelle scuole e mi risulta che l'attuazione sia stata molto timida. Se noi intervistassimo per la strada le giovani generazioni e chiedessimo qualche nozione sulla storia siciliana, sullo statuto o anche cosa rappresenta il simbolo della Sicilia avremmo probabilmente risposte deludenti. C'è un vuoto, c'è un'ignoranza e a mio parere qualcosa bisognerebbe fare in più. Se andiamo nella prossima slide, io ho fatto un divertissement, un esercizio per vedere se il siciliano fosse una delle lingue del Parlamento europeo, dove si troverebbe? E come vedete non starebbe in fondo alla classifica, ma sarebbe più o meno a metà insieme all'inglese, peraltro adesso a seguito della Brexit. Era per spiegare come il siciliano non sia, diversamente per esempio dal maltese, non sia una lingua di poco conto, anche da un punto di vista numerico. E c'è poi nella prossima slide, con l'aiuto di Aliona, sì, grazie, c'è il fatto che è già stato detto che la rete dei siciliani all'estero è immensa, questo l'abbiamo già detto tante volte, ma chiediamoci cosa è stato fatto in questi ultimi decenni per rivitalizzare questa rete, per mantenere il contatto con i nostri cugini che sono in Australia o negli Stati Uniti o in Sud America. Qui abbiamo il professor Cipolla, a me risulta che la sua grammatica, che è internazionalmente riconosciuta, credo sia la quarta edizione negli Stati Uniti, ma usata pochissimo, non voglio usare altri aggettivi, usata pochissimo in Italia e in Sicilia. C'è probabilmente qualcosa da ripensare anche su questo, anche perché il siciliano che parlano i nostri cugini di oltreoceano è probabilmente un siciliano da cui noi avremmo tanto da imparare, proprio perché loro hanno preservato molto del bagaglio lessicale, per esempio, che noi invece adesso stiamo perdendo, perché come è stato giustamente detto, tendiamo a sicilianizzare dei termini italiani o inglesi. E questo è come se dovessimo un bicchiere di whisky, mezzo bicchiere, in cui mano a mano aggiungiamo dell'acqua, il risultato finale sarà un whisky diluito, non sarà un whisky della stessa qualità. La domanda che mi farete voi è, ok, hai detto che dovremmo cambiare le cose, ma come, in che modo, con quale strategia, con quale approccio? E qui andiamo nella prossima slide, perché ci sono secondo me tre linee di azione. La prima è questa, il manifesto, e andiamo anzi alla prossima slide. Voi avrete notato che c'era scritto Altiero Spinelli all'entrata al Parlamento europeo. e uno dei motivi è il contributo che lui ha dato all'idea europea, il quale contributo si è fondato inizialmente su un manifesto. E io credo, noi crediamo, che il manifesto, anche per il siciliano, possa essere un atto simbolico, ma anche pratico e operativo, per segnare un cambio di passo. Come strutturare un manifesto e perché? Un manifesto rappresenterebbe un insieme di, innanzitutto avrebbe una premessa, andiamo alla prossima slide, avrebbe una serie di premesse sul perché il siciliano è un patrimonio da difendere e avrebbe una parte operativa nella quale noi potremmo declinare una serie di azioni che possiamo fare e nella cui efficacia noi crediamo. Ecco, questo potrebbe essere la struttura del manifesto che io spero che in esito a questo evento possa vedere la luce. Anche perché sarebbe un atto simbolico di grande importanza che noi potremmo presentare alle istituzioni, noi avevamo qui l'assessore all'istruzione presente, ma anche sarebbe il simbolo di un'altra cosa importante, il fatto che noi siciliani, che spesso non brilliamo per coordinamento e per unità di vedute, troviamo invece un linguaggio comune, il caso di dirlo, su un documento che prescrive una visione per il futuro. Quindi io credo molto in questo. E poi velocemente cito altre due cose, che a parte il manifesto, che il manifesto per sua struttura deve essere un documento agile, sintetico, di immediato impatto, ma accanto al manifesto, a mio parere, andiamo alla prossima slide, occorre un altro tipo di documento, che probabilmente sarà qualcosa di questo tipo, cioè un piano d'azione che declini le linee prioritarie del manifesto in una serie di azioni concrete, le quali devono coinvolgere tutti, tutti noi, tutte le categorie, il piano artistico, come il piano delle scuole, come l'Accademia, come i mass media, i giornalisti, e così via. Insomma, non elenco tutte le categorie citate, ma ritengo che comunque anche lì, anche il piano di azione, possa rappresentare una bussola per le azioni future. Io nella slide ho citato un terzo punto, che è importante, e la vostra presenza lo testimonia, che è quello delle iniziative varie, perché al di là dell'approccio e della strategia strutturata che vi ho descritto prima, ben vengano anche le singole iniziative, ieri ho ricevuto questo, ho ricevuto una traduzione del Vangelo in siciliano, e abbiamo sentito tante altre iniziative. Ci sono delle iniziative spontanee che sorgono e che sono lodeoli, importantissime, e che devono continuare a esserci, e che in futuro potranno svolgersi anche all'interno di questo ombrello più grande, di questo coordinamento strategico, che poi altro non è che l'approccio che noi usavamo per i progetti della Commissione Europea nei Paesi dell'Est, di cui vi ho parlato in apertura. Io adesso mi avvio alla conclusione per tornare da dove ero partito. Quando sono venuto qui a Bruxelles, no vi dico questo, che mia figlia mi ha detto ci mancherai, però so che vai per difendere il siciliano. E quindi va bene. E quindi io dedico questa presentazione, e questo approccio, e questa passione, sia ai miei figli, ma a tutti i nostri figli, e a tutte le nuove generazioni di siciliani. Grazie, grazie veramente. Grazie, grazie Aurelio. Siete stanchi, è vero, con quattro ore di discorsi sul siciliano si fanno sentire, però vedo che siete ancora tutti lì attenti, e mi fa piacere. Adesso cambiamo il ritmo, cambiamo il ritmo. Non so dov'è, ma bisognerebbe chiamare Salvo Piparo. Dov'è Salvo Piparo? Allora, mentre troviamo Salvo Piparo, eccolo qua. Ok, caldo, tranquillo, tranquillo. Eccolo qua, eccolo qua. Io mi ricollego a quello che dicevo, Aurelio, sui figli, perché anche io ho una figlia, ne ho due, una è troppo piccola, una ha cinque anni e mezzo, e quindi ci faccio delle chiacchierate, mentre la accompagno a scuola. Lei è nata a Bruxelles, tutti e due sono nati a Bruxelles, quindi in questo miscuglio di lingue che parlano, sentono a scuola, l'amica brasiliana, il compagnetto spagnolo, un po' francese, un po' inglese, un po' olandese, fiammingo. Quindi, insomma, e alle volte entriamo in macchina e accompagno e dico, e come si dice questo in spagnolo? Come si dice questo in francese? Come si dice in inglese? E lei mi dice, Papa, come si dice in francese, in inglese? E in siciliano? Dico, in siciliano come si dice? Ed è una cosa in più che... E lei comincia a pensare che è come se aggiungesse una lingua in più, un modo di dire in più. È una cosa molto bella. Io, Salvo, tu hai un compito, Salvo non ha bisogno di presentazioni, diciamocelo, non ha bisogno... Sono felicissimo, sono molto orgoglioso di questo nostro incontro. La cosa che sta succedendo oggi è che comunque delle persone si incontrano e ne parlano. Ed è giusto che ci sia questo scambio, questo scambio è necessario. Questo scambio mette insieme tante teste. Da noi in Sicilia ogni testa è tribunale. Quindi, vedete come noi per ogni cosa che raccontiamo abbiamo dunque una metafora, abbiamo dunque una visione, un'immagine cinematografica. Come se avessimo inventato noi la prima visione. È Omero che ce lo insegna. Omero racconta dunque per immagini. E quindi c'è il mondo greco che si unisce a noi, a noi siciliani. C'è il mondo francese, i francesi, gli angioini, nel bene e nel male, con il vespro. I francesi ci hanno lasciato delle parole bellissime, importanti. Asceter, accattare, tomber, attumulare. No, vabbè. E ci sono delle parole garage, ruaggio. C'è anche il verbo travailler, travailler. Il verbo c'è, ma travailler un c'è lì. Giochiamo, giochiamo con le parole. Mio nonno, mia nonna mi diceva quando andavamo a fare la spesa a Ballarò, Ballarò che è il quartiere, il mercato degli specchi, Ballarò, Ballarac. A Palermo, mia nonna che abitava all'albergheria, mi diceva, sai boh, pigliamo un paetot e andiamo a fare la spesa a Ballarò. E io mi giravo e non sapevo cosa fosse il palto. E lo cercavo, cercavo qualcosa di astratto. Il palto è il cappotto in francese. Mia nonna parlava francese, ma non lo sapeva. Esatto. Non lo sapeva. Mio nonno parlava greco e non lo sapeva neanche lui. Mio nonno che diceva catamiati, catamiati è greco, muoviti, è annacati, annacati è greco. Quindi ci sono delle parole del mondo che sono finite in Sicilia non per caso. Allora, questo punto che invece avevamo pensato di raccontare vuole essere la dimostrazione che noi siciliani siamo, sì, ogni testa è tribunale perché in tribunale ancora si stanno svolgendo dei fatti di cronaca. Dunque, il punto come cronaca. Il siciliano parla a metà, l'altra a metà se dovesse servire gliela mette il suo avvocato. Questa storia dovrebbe cominciare con un verso un po' abbaccagliato. Che cos'è il baccaglio? Il baccaglio è un linguaggio siciliano in italiano è tradotto come bavaglio è il linguaggio imbavagliato del bavaglio. Dunque, c'è un codice che alcuni siciliani adottano. Questi siciliani che adottano il baccaglio sono dunque spadagnissà tapanza succata si tipi a te l'ai ghi colo. Così li definiamo. Hanno la voce a cannavazzo, hanno la voce a cannavazzo. Che cos'è la voce a cannavazzo? L'abbiamo inventata noi in Sicilia la voce a cannavazzo. È del siciliano che per darsi un tono di importanza e dunque di mafiositudine si mette la voce così grave a cannavazzato. Perché si chiama voce a cannavazzo? Salvo Licata drammaturgo palermitano ce lo spiega per primo. Si parla che quando i siciliani andarono per la prima volta a vedere la proiezione del padrino si innamorarono dell'espediente che Marlon Brando aveva adottato di mettersi la voce a cannavazzo per l'appunto e loro pensavano come possiamo farci venire la voce di Marlon Brando? Comandarono perché il patriarcato c'era pure allora la moglie di portare un cannavazzo bagnato dunque uno strofinaccio bagnato la sera prima di andare a letto Carmela portami un bello strofinaccio bagnato e Carmela ci portava lo strofinaccio bagnato a Totuccio Totuccio che aveva la voce come quella mia da malaminchiata si metteva lo strofinaccio bagnato qui nella gola e si andava a coricare e si coricava e lì domani mattina Totuccio aveva la voce al cannavazzo perché l'umidità gli tirava le corde vedete un baccaglio è una cosa seria nel baccaglio si svela il carattere di noi siciliani una parte di questo carattere è chiaro ma è come se fosse un codice un codice d'onore nel baccaglio si raccontano cose strane dove la parola cosa è una parola abusata perché noi siamo abusivi abusiamo di questa parola cosa continuamente e la utilizziamo per ogni cosa questa parola è la chiave che apre molte porte dei racconti ma dimmi una cosa sei una cosa inutile cosa fetusa cosa 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 di prenderti a legnata ma che cosa ti hai mangiato cosa di crapriccio ogni cosa c'è una parola c'è un pretesto per nominare questa parola cosa dunque anche che so in camera da letto la moglie lo dice al marito amore fammi vedere quella cosa che a terra non ci possa la moglie la moglie così che lo dice al marito nel babbio nello scherzo il marito si spoglia e a quel punto la moglie lo guarda e dice e ti ha presente questa cosa scherziamo giochiamo ma anche nei palazzi del potere quante volte l'assessore lo dice all'uscere l'uscere anzi lo dice all'assessore assessore quella cosa com'è finita quella cosa e l'assessore risponde quella cosa sta camminando e si spiega perché a Palermo abbiamo tutte queste isole pedonate quindi possiamo scherzare col siciliano è vero possiamo alleggerirlo e possiamo esorcizzare dunque la mafiositudine perché se noi la mafia la vogliamo anche chiamare in codice la chiamiamo cosa nostra e allora o ruce o contamo ora contamo la mano era una giornata di maggio e c'era caldo caldo troppo caldo quel giorno santo santino un uomo che conosco bene nel quartiere di Ballarò fa l'acquedotto dei poveri è così chiamato ingiuriato l'inciuria il soprannore l'acquedotto ripoveria perché chi è santo santo è un fontaniere è un fontaniere che aiuta le famiglie povere che non si possono permettere di pagare le bollette troppo care e così il fontaniere dei poveri l'acquedotto ripoveria va nelle case dei palermitani di Ballarò e ci fa un bello un trallazzo ma che cosa è questo un trallazzo un trallazzo un trallazzo un trallazzo è una parola difficile questo un trallazzo è una parola che comincia con apostrofo n trallazzo un trallazzo lo devi dire tutti insieme è come incinaghi che ha una radice latina e incinaghi è una parola difficile perché la gente pensa solo a una cosa sola a una cosa sola si pensa quando si pensa in incinaghi siamo pieni di incinaghi guarda queste sono incinaghi questi sono incinaghi questi sono incinaghi questi sono incinaghi questi sono incinaghi e queste infine sono incinaghi in Sicilia succhio sai incinaghi che hai piccolo e non la sacchia detto questo detto questo possiamo continuamente giocare con le parole ma quel giorno santo il fontaniere di Ballarò ci aveva fatto un bello travaglio con un trallazzo piegato ne incinaghi e sua ora ci aveva lacciato tutti i tubi dell'officina di un uomo che si chiama che si chiama forse il nome lo dovremmo dire lo dovremmo dire per intero Pasquale Primavera il meccanico di Ballarò segnatevelo questo nome Pasquale Primavera è il meccanico di un luogo di un piano di una piazza che si chiama Ulescio è stato chiuso e lui ha sempre riaperto per Google Map Pasquale Primavera non esiste ma lui è lì e i palermitani lo sanno e lì vanno a truccare macchine e motorine e santo quel giorno viene chiamato da Pasquale Primavera per farci un bello travaglio con un trallazzo perché Pasquale non ha più intenzione di pagare né acqua né luce né niente e così lui ci va ci va e ci fa un bello travaglio che arrega ma che cosa e ti vedi la metafora che arrega un lavoro con l'arrega un lavoro fatto per bene di tutto punto dunque ci fa e Pasquale è contento è contento assai e ci dice a santo santo si è un omicidio un omicidio vero mi faciste un travaglio che fa bene il mio cuore a tale arte e io siccome mi voglio diciamo togliere l'obbligo perché da noi il grazie non si dice mai infatti noi abbiamo persino financo inventato il ringraziamento omertoso non ti dico niente l'abbiamo inventato no non ti dico niente è nostro c'è il copyright ok allora siccome lui non gli voleva dire niente ma lo voleva ringraziare gli comanda Pasquale è assaputo di salire in macchina in una macchina che lui sta sistemando sta truccando perché così si possono andare a prendere un caffettino che Pasquale gli vuole offrire un bello caffettino paittimare a Santino e glielo dice Santino è chiaro un pensare anneante ne sbariamo un po' chi pensare non usere via è chiaro ne è da così Santo Acchiana in quest'auto un'auto che Pasquale aveva appena finito di truccare una lancia HF integrale rossa 340 km orare era così fumante e da così si mettono in ciaisama che ne cominciano a camminare e a correre camminano 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 e se ne vanno parte di mare si vanno a picchiano un bello gelatino che ci arriva fino all'ugno piare e ci arriva il suo gelatino si vanno a bere un bello caffettino e al ritorno si infilano di nuovo dentro l'auto e quest'auto adesso guidata da Pasquale questa volta comincia a correre come all'andata non aveva fatto e comincia a tirare tira 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 perché da noi il verbo tirare è importante anche quando ci facciamo una fotografia non la scattiamo non la fotografia tiriamo quando corriamo con la macchina tiriamo ma che fa da tirare la porta noi tiriamo sempre tutto tiriamo e così cominciano a tirare e Pasquale o la tirano tirano va picchiano o rovianto ripiatto ovvianto trasiava rintra i finestrini da macchina calate c'era cavolo in quella giornata di maggio trasiava e ci tagliava la faccia a Santa Pasqua le maide un se ne scannaleavano e di da macchina fendevano l'aria e ora da macchina corre va corre va corre va dalla corsia di destra passà va alla corsia di sinistra dalla corsia di sinistra passà va alla corsia di destra destra sinistra casi c'era una volante si fuitava tutt'ero e rintra e da così ora cammina no cammina no corre no corre no supera ronno macchine importanti e fu allora che superando queste macchine adesso con quella macchina con quella lancia HF integrale fiammante Santo e Pasqua le imboccarono una galleria e fu rintra da galleria a cantissero un boato un boato che ho fatto le boate un boato che è lontano io lontano un boato che è vicio a santo mare un boato che ho uscìano e a terra ha già ignaro in tà facce e se fiammano pure i rocce dopo quel boato ci fu un silenzio sordo miglia e miglia oltre la soglia del dolore e fu in quel silenzio che lo sportello di quell'auto si aprì e scese santo santino scantato un cuore tanto ora santino a quattro piedi in terra si toccava gli ammi e i brazi e pensava siamo vivi Pasquale mi senti sei ti sento come sei buono ma com'è che sei buono ma ho sentito che sono buono ma che succede ma com'è che siamo vivi e Pasquale lo sapete non so che ci ha rispondito perché questa è una storia vera che mi è stata raccontata proprio da loro Pasquale in maniera orgogliosa rispose quel giorno a santino siamo vivi perché mai abbiamo parlato assai ma sempre inteso più picca miracolati redde quattrocento cavalli assetate temi serin saldumutu e beneritto rosignò e da così fu che santo e Pasquale si votarono in arriare per venire in soccucciare da in arriare e da in arriare c'erano malvini screpentate di tutti i maniare c'erano macerie e un capo macerie e fu per questo che si votarono e ghiero avanti ma questa volta però scannaliati li avevano abbinti e i macchini risbi ricciavano un conto pazzutti sfrecciavano ambulanze li taniavano ansia e sgomentori tutti di cristiani gassavano moreno e correvano elicotteri angeli angeli avvolto i beccamotti figli remate tonache nere usette morregge mento correo verso adus facerlo a sola picca cristiani avea graziato e questo e questo perché un certo falcone i perosanto ci aveva toccato sango saggio santo iccato tanto così rivendicato o vianto i parole russato bravo grazie per avermi ascoltato sul punto ora puntavo e come dice la tradizione la tradizione ci comanda al suo punto in puntavo siamo ancora al borsellino quater imbrigliati imbrigliati ancora e navutavuata sul punto se vuole Dio arripigliano grazie bravo grazie salvo ci hai fatto ci hai fatto emozionare grazie veramente grazie a voi grazie a tutti questo è come il siciliano riesce ad entrare lasciate entrare nei cuori allora io passo da un salvo a un altro ad un salvo che è super conosciuto puoi decidere tu se venire qui sopra se parla da lì se prendere il microfono in mano da catanese a catanese salvo salvo la rosa oltre ad essere uno conosciutissimo e apprezzatissimo presentatore televisivo teatrale è uno dei più grandi connettori di siciliani in sicilia nel mondo ed è forse grazie grazie a te ed è forse salvo quello che più di tutti ci può dare il polso di quanto il siciliano una maggiore tutela una maggiore conservazione e utilizzo del siciliano può essere sentito e voluto dai siciliani che tu incontri giornalmente in ogni angolo di sicilia e del mondo a te la parola salvo la rosa qui con noi a brussel grazie grazie intanto grazie a tutte le persone che ieri sera erano al teatro perché per noi il pubblico è tutto è importante ho visto che vi siete divertiti avete gradito lo spettacolo quindi questo per noi è motivo di grande gioia però sia lo spettacolo di ieri sera per quello che mi riguarda sia l'esibizione che abbiamo appena visto di Salvo Piparo che è il più grande contista o uno dei più grandi contisti viventi io amo molto il suo lavoro tanto che ho dedicato a lui parecchie trasmissioni a TGS ne faremo un'altra proprio la settimana prossima che andrà in onda prossimamente proprio per tutelare e promuovere ulteriormente la nostra lingua e le nostre tradizioni quindi lo spettacolo di ieri sera in musica e parole e ora questa esibizione con le sue parole più tardi anche quella di Alessio Bondi confermano quanto ha detto anche la professoressa Castiglione abbiamo parlato anche stamattina in un talk che andrà in onda su Ray TV con il collega Filippo Romeo cioè che poi il nostro compito noi in qualche modo con umiltà insomma con professionalità e con pazienza lo facciamo da tempo quando dico noi dico tutti quelli che operano nel settore dell'arte della cultura dello spettacolo della musica perché tramandiamo di fatto quelli che sono testi vecchi e nuovi in siciliano li promozioniamo li portiamo in teatro li regaliamo ad un pubblico sicuramente più o meno vasto ma che ci segue non solo in Sicilia ma anche in Italia perché facciamo molte tournée laddove ci sono tanti siciliani e anche all'estero siamo stati più volte in Belgio più volte in Canada negli Stati Uniti in Australia dove vi devo dire che la lontananza e la distanza è talmente tale che molti di loro tornano raramente in Sicilia e quindi quando hanno un contatto con qualcosa che arrivi dalla Sicilia diventa per loro ancora più forte per cui io non sono un docente non sono un esperto non sono soprattutto un politico quindi posso fare quello che il mio lavoro mi permette di fare e cerchiamo di farlo sempre con grande passione ho detto ieri e ribadisco oggi che ho utilizzato e utilizzo sempre senza vergogna senza limiti il siciliano anche nelle normali mie trasmissioni laddove potrebbe sembrare un osare troppo mettere qualche parola siciliana lo faccio lo faccio volentieri perché molte volte il siciliano ha dei suoni ha dei vocaboli ha delle sciddicature come noi diciamo che sono sicuramente ancora più fondamentali e come ho detto anche ieri ancora una volta le tradizioni si tramandano anche attraverso la famiglia la mia insegnante di siciliano è stata appunto mia nonna si parlava di famiglia si parlava di genitori non tanto i miei genitori perché i miei genitori appartenevano sono ancora vivi e quindi adesso hanno anche un po' cambiato l'atteggiamento ma appartenevano a quelle famiglie che lo dico con semplicità famiglie semplici che un po' si vergognavano e ce lo dicevano in faccia a mia sorella non parlate siciliano perché non è elegante era zaurdo per loro parlare siciliano tascio per gli amici e le amiche palermitane e lo facevano a fin di bene perché loro erano figli appunto mia nonna di persone che parlavano solo il siciliano che erano persone ancora più umili persone che non avevano potuto magari studiare mia nonna aveva la terza o forse la quarta elementare però quando io andavo a casa sua ma ricriava la vita perché cambiava la mia vita potevo fare quello che volevo intanto perché unipute era unipute e lei mi insegnava professore il siciliano ho detto prima l'ho detto anche in un'intervista unipute a sette decà e pigli di una cicara di caffè la tazza una tazzina di caffè poi io arrivavo da ragazzino allora si portavano i mongomeri questi mongomeri molto pesanti neri col cappuccio e mia nonna non li sopportava ci parevano troppo brutti troppo pesanti e faceva allevatillo sto carriacarne per favore il carriacarne era quella stuola che si mettevano e si mettono ancora i macellai per trasportare i quarti di carne quando poi ce l'aveva con mio nonno cioè quasi sempre mio nonno era a lavorare faceva l'autista del comune mio nonno erano di quelli che portava la vara di Sant'Agata quindi per i catanesi ma anche per i non catanesi è una cosa molto molto forte la vara di Sant'Agata sotto c'ha un pilota un guidatore uno di questi è stato mio nonno come dipendente comunale quando ce l'aveva con lui faceva caro caro salvuccio perché ero salvuccio sempre una volta una mia zia la chiamai ci dice zia sono salvo ma salvo chi zia salvo tu salvo ma salvo chi e tuo nipote ah salvuccio sì e quindi faceva cutto nonno a coda ruppa ruppa ci vanno menzo con non ci guppa quindi tutte queste cose sono state delle elezioni di siciliano tramandate e riportate cosa voglio dire voglio dire che insomma sicuramente la nostra è una lingua è stata la prima lingua italiana dal 1220 quando appunto Federico II la coltivò alla sua corte l'imperatore lo stupor mundi chiamando parecchi parecchi poeti Jacopo Dalentini Ciullo D'Alcamo e anche Pier delle Vigne che viene citato anche da D'Antalighieri nell'inferno dantesco io credo che però ecco ritorno a quanto detto alle nostre professoresse da Irida e da Marina l'una non escluda l'altra assolutamente la nostra lingua è la lingua italiana la lingua siciliana può essere sicuramente l'altra lingua il bilinguismo di cui abbiamo parlato cercando anche di amalgamare se possibile un po' i dialetti che sono sicuramente molto diversi tra di loro ma che devono certamente tenere le proprie prerogative le proprie peculiarità e cercare poi appunto di tramandare anche alle nuove generazioni queste queste nostre tradizioni non lo so se sarà possibile Ignazio insegnarla nelle scuole non lo so a me sembra un po' complicato devo dirlo in verità però credo che già possa bastare un lavoro di tramandare la lingua attraverso l'arte attraverso la cultura attraverso le associazioni attraverso anche studi e convegni come questo noi continueremo a fare la nostra parte e speriamo sempre di avere tanti salvo piparo e tanti artisti e tanti studiosi che portino avanti ancora la nostra lingua quindi viva la Sicilia sicuramente e grazie a Kututu Kori come diceva sempre mia nonna grazie e io aggiungerei di avere tanti salvo la rosa e di avere tanti salvo la rosa che riescono a possono essere dei tramite appunto però insomma c'è bisogno di tutti io dico che c'è il fatto che si riesce a trasmettere anche quelli che siamo qui se ognuno di quelli che è qui dentro parla con altre dieci che parlano con altre dieci è in questo modo che si trasmette il messaggio tu parli con mille anche con un po' di unione tra noi siciliani che molte volte magari non vedo purtroppo fa parte vedo Davide che ti stia mio nonna non ti stiare perché a volte ci sta anche questo però ecco questa isola questi 5 milioni e 500 milioni sono assai e quindi cerchiamo di metterli assieme e di ragionare tutti quanti insieme e tornare allo spirito del congresso di Gela allora io ritornerei so che siete molto stanchi ed effettivamente sono tante ore ora che siamo qui quindi io vi chiedo direi di chiudere ormai gli interventi passare al lato musicale in Sicilia quanto prima per dare seguito a questo lavoro questo è un impegno che penso ci possiamo prendere tutti quindi darci un appuntamento a breve giro in Sicilia per fare un follow up quindi per dare seguito a tutti gli impegni e tutte le cose che stiamo mettendo per iscritto in questo momento allora io non so dove sono ma chiamerei sia Alessio Bondi che Amanda Pascale a seguire il professore io il professore Bonanzinga me lo tengo qui accanto e gli faccio fare l'introduzione tra l'uno e l'altro e l'altro intervento musicale quindi la performance perché è la sua materia e quindi ci dirà semplicemente qualcosa tra l'uno e l'altro partiamo con Alessio Bondi che è un bravissimo cantautore palermitano che ha fatto la coraggiosa scelta di esprimere la sua arte in siciliano rispetto magari ad altre lingue che gli avrebbero dato un pubblico più vasto Alessio più vasto ma meno selettivo e meno passionale e autentico a te dico la parola a te la musica Alessio Bondi l'anima lingua madre e lingua padre perché è da mamma e papà che l'ho assorbita e non di certo facendo esercizi e ti di grammatica l'ho ricevuta con la guida di un'emozione di un gesto di un'azione concreta nell'arte del racconto o dentro un ammonimento ad esempio la parola buscare mi sento tippaticissimo perché l'ho principalmente sentita in due situazioni la prima vedi che a buschi ossia le prendi e l'altra la busca a tuo pane ossia la tavaglia cosa che come intuiti dal mio percorso artistico decennale o mi ha piaciuto mai eppure pur non utrendo una grande simpatia e pur non avendolo mai imparato dai libri io so declinare questo verbo in tutte le sue forme verbali che cosa prodigiosa l'oralità pur senza aver fatto mai io busco lo so automaticamente se mi chiedi una voce verbale te la so dire il siciliano è la lingua che mi ritrovo ad avere nel fondo dell'interiorità nel midollo delle ossa nel centro di ogni cellula la lingua della viscera del ventre dello sperma del sangue del fango del grido della vergogna ma anche della dolcezza di mia nonna o di una frase percorsa a perdifiato da una studentessa di provincia la lingua del pane fatto in casa la lingua in cui parlano gli animali è la mia lingua bestiale in cui tutto il Mediterraneo si incontra e si sublima lingua degli ancestri la lingua che se non ti insegnano a parlare nessuna lingua è quella la lingua che ti esce una lingua bella da cantare una lingua talmente bella che la si canta anche quando si parla il poeta veneto Andrea Zanzotto diceva che il dialetto è l'inconscio della lingua è come l'inconscio ci parla attraverso i sogni ci indica la strada ci dona simboli metafore lampi di genio popolare che risalgono dal profondo come bolle ed esplodono in superficie una lingua intima nella quale da dieci anni scrivo canzoni perché se vado veramente a fondo esce lei la madre lingua di natura lingua eterna lingua censurata stuprata lingua di rabbia lingua di cui spesso mi manca la parola perché si parla la parlo sempre meno lingua da coccolare da incoraggiare lingua che abbiamo dentro e che viene fuori lingua con cui si possono creare mondi inaspettati una lingua vergine lingua in cui ognuno di quelli che nei secoli l'ha parlata ha lasciato una piccola traccia una piccola impronta l'ha cambiata e l'ha trasmessa spesso emerge nei miei sogni e mi regalo una cantilena una parola un incastro una canzone ed è umaggiando questa lingua che canto una canzone che è piena di senso di perdita ma anche di speranza che ho scritto qualche tempo dopo che il mio amantissimo non ho già di morire come sempre la perdita ci avvicina a ciò che c'è ed è proprio questa vita che il siciliano ci regala oggi con tutto quello che abbiamo perduto tutto quello che resta e tutto quello che possiamo ancora conquistare la canzone si chiama Ave Maria Al contrario grazie a tutti 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 questa questa grazie a tutti 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 e a tutti grazie a tutti grazie a tutti e 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 a tutti grazie a tutti e 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 tutti e a tutti e a tutti e tutti e a 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 tutti grazie a tutti e quindi e quindi e quindi e quindi e tutti e a tutti e a tutti e a tutti e tutti e a tutti e quindi e che e a tutti e a tutti e a tutti e tutti e quindi e quindi e non e tutti e tutti e tutti e tutti e tutti e quindi e tutti 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 e tutti